Signori, buonasera Vi do il benvenuto in questa live Vi do il benvenuto Con la PIL3 Vi do il benvenuto Con Matrix Labsol Vi do il benvenuto alla Lega Pokémon Soprattutto E lo dico già da adesso Anche per chi vedrà questo video su Creepy Live Il canale di ricaricamento Lo dico per la chat E chi è in chat da subito Eeeh Ci vorrà un po' per iniziare La Lega Pokémon Perché vanno fatte alcune riflessioni Vanno dette alcune cose Va Deciso anche se potrei aver già deciso Ma va discusso ecco Se non altro Come giocare Al meglio Ve lo discusse le conseguenze di ciò che andremo a fare Della vittoria possibile Della possibile sconfitta Del possibile 104% Di dove questo potrebbe portarci In termini di classifica Di quali obiettivi Noi possiamo ricercare A seconda di ciò che otterremmo quest'oggi Metto dell'acqua nel frigo Ne avremo bisogno Oh sì Oh sì Oh sì Oh sì Davide sottolineatura Pesa 937 Ha rinnovato l'abbonamento Per 11 mesi Ne approfitto per darvi il benvenuto Oh sì Oh sì Per ringraziare un po' Ne sono scadute Raga A breve vedete Il counter scendere Oh sì A 1510 Ne abbiamo verse 100 Quindi immagino che Ce ne saranno tante Da recuperare Quest'oggi Spero ti porti fortuna Punto esclamativo a cuore Aspettiamo prima di dire Qualsiasi cosa Ovviamente Oh sì Chiacchieriamo un po' E poi facciamo appunto La situazione Sia in termini di pil Che in termini di gameplay Che dobbiamo fare Ci vorrà un po' Oh sì Prevedo di iniziare La lega Pokémon Attorno alle 21 e 20 Slash 21 e 30 Poi giuro che vi ringrazio Giuro che vi ringrazio Adesso vi recupero Allora Grazie per l'ottavo mese di Prime Davide Pesa Grazie per l'undicesimo mese di Prime Joti Grazie per il quarto mese di Prime Intanto la Ape Train sta già volando Marti Grazie per il ventottesimo mese di Prime Oh sì Oh sì Madonna Statedi ha rinnovato l'abbonamento Per quattro mesi Non sono riuscito a finire Di recuperare l'ultimo Sono arrivato alla fine Del Rocket Ride Out Benvenuti a tutti in live Stasera sono qua A supportarti in questa importante sera Grazie per il supporto Grazie per l'affetto Oh sì Albus G19051 Ha rinnovato l'abbonamento Per tre mesi Spacca tutto il crap Grazie per il quarto mese di Prime E pistola alla testa Grazie per l'ottavo mese di Prime Oh sì Oh sì Come va Bene Casato Adesso ne parliamo Yamazuke Grazie per le cinque Saboli Ho vista distruggita adesso Non so come sia possibile Mi aspetto vittoria Della run E altre cinque Oh sì Oh sì Oh sì Non importa se la sono qua Bravo Però è vero Albus G19051 Oh sì Oh sì Oh sì Anamen Sottolinea Una nasagna buona Batte una pizza Però over all pizza Oh sì Oh sì Riccilla Grazie per l'ottavo mese Grazie per l'ottavo mese Allora quello di là Ha fatto tre run in sei try Adesso ne parliamo Adesso ne parliamo Adesso ne parliamo Vediamo cosa fare Adesso ne parliamo Oh sì Grazie per il quarto mese di Prime Anamen Grazie per il settimo mese di Prime Per il vero eroe Che ciò ciò ne parliamo Anamen Oh sì Ah sì Ah sì Grazie per il quinto mese di Prime L'argosimo 02 Ha rinnovato l'abbonamento Per cinque mesi Oh sì Grazie a Ardia Turan Ardia Turan 10 Ha regalato dieci abbonamenti Per i dieci abbonamenti Regalati al canale Torna in carreggia Ah sì Oh sì Torna in carreggiata Il nostro uomo Nico Grazie per il Prime Secondo mese Crapo portaci in Europa Mirate in basso Rai Oh sì E qua non si può più mirare in basso Qua sarebbe scorretto Mirare in basso Non trovate? Grazie Luca Lukez Per le 5 sub regalate al canale Praticamente in concomitanza Con quelle di Ardia Madonna quanto state sbancando Grazie perché stiamo ripigliando Le 1800 sub Da che siamo scesi di 100 Quindi apprezzo Masumate grazie per il Prime Allora signori Siamo già in 1000 Io vi ringrazio per gli abbonamenti Vi ringrazio per i bit Grazie Oh aspettate stop Quest'altra cosa Ale la devo ancora dire Sì sì è una criminale Grazie per i bit E Ale ti devo ringraziare per l'ip chat Prima di dire ogni cosa a questo punto Vi informo che c'è una nuova funzione di Twitch Che è live chat Che è sostanzialmente la super chat di Youtube Quindi anziché troppare bit Potete far piovere soldi a pioggia Oh sì È la stessa cosa Solo che Le percentuali per quanto mi riguarda Sono un po' più trasparenti Quindi Lo dico ora Vi dico che Vi do subito questa info Io preferirei le super chat Aggiungo che Non ci sono ancora gli alert Per le super chat Perché non ci sono ancora gli aggiornamenti Quindi come funziona ancora un po' sperimentale Però se volete sfruttarla Testarla Per farmi piovere soldi in testa Io apprezzo E ovviamente sempre il solito discorso Messaggio evidenziato Lo leggo Oh sì Supporto al canale Supporto a tutto Si festeggia e quant'altro Da oggi avete Sia i bit Che la hype chat Dovrebbe esserci un tasso Che non so bene dove sia Ma Dovreste trovarlo Adesso Vi devo chiedere un attimo Oh sì Perché altrimenti qua non si riesce a parlare Musugna 1998 Ha rinnovato l'abbonamento Per quattro mesi Allora Grazie Andrea grazie per i 25 bit Ho friquatt Sì Ci siamo Grazie a Dia per i 25 Mi spiace che cosa vuoi Non lo posso seguire sempre nel live Ma sono sempre per la vittoria La pil Bravo Veroeroe Madonna Dio raga Mi perderò Oh sì Oh sì Oh sì Cr1S1 Sottolineatura 0-0 Ha rinnovato l'abbonamento Per sei mesi Spingere Krap Vero Buona fortuna per sta in Lega Oh sì Il mio preferito Oh sì Grazie per il quinto mese Disattivo un attimo gli alert Per un secondo Se avete delle sub Magari tenetevele un attimo da parte Se volete droppare Ve le recupero dopo Prima della Lega Recupero tutto Entriamo la Lega Col cazzo duro Va bene Cerco di recuperare tutto dopo Però adesso dobbiamo parlare un po' Altrimenti non iniziamo più Allora signori Come voi sapete Io ho partecipato a questa competizione Mirando sempre In primis alla vittoria della Kaizo Che alla vittoria della Apil E questo sicuramente Mi ha anche portato a fare Un certo tipo di giocate Nel corso di Diciamo Tutto il torneo Mi viene in mente banalmente I 100 punti persi Con Pino contro Blaze Per provare a combinare qualcosa Abbiamo fatto una cavalcata eccezionale E E ci troviamo terzi Con la vittoria della Kaizo Quindi arrivati a questo punto Ovviamente Io forse per la prima volta Da quando faccio le PIL Devo Analizzare la classifica E quindi siamo qua Perché è tagliata fino al sesto? Perché è il settimo era sdrumox E non so se posso far vedere La sua faccia su Twitch Allora Questa è la classifica Con cui abbiamo a che fare Tuono è primo 17.886 punti Il Masseo è secondo 17.550 punti Ma Masseo Ha finito i try Terzi ci siamo noi Con questa lega da fare E 14.203 punti Problema Io oggi ho seguito Tuono Tuono è molto fortunato Che chi ne dica Non che io posso fargli la morale In termini di fortuna Ma Tuono è molto fortunato Perché ha 386 run 17.000 punti E una run in corso Quindi la situazione È questa Ora Facciamo un po' di stime Di quello a cui noi possiamo puntare In questo try Completare La lega Pokémon Da 2000 punti secchi Fare anche Blu e rosso Ne porta altri 1000 Con questi numeri Noi possiamo farci Secondo me Delle idee Ora Secondo me Le Opzioni Che abbiamo Le Le out potenziali Sono tre E ovviamente Coincidono Con Una lega Pokémon Persa Presto Una lega Pokémon Vinta E aggiungo Melia Grazie per il ride Abbiamo gli alert Disattivati Ragazzi Però benvenuti Benvenuti a tutti Abbiamo gli alert Disattivati Perché stiamo facendo Il discorso Ma Benvenuti a tutti Grazie a media Per il ride Oggi sono entrato Un po' Nella tua live Ho visto un King D'abbastanza pacco Dimmi come è andata Dicevo Che mi sono interrotto Le out che abbiamo Sono tre Perdere la lega Presto Perderla male Vincere la lega Vincere il 104% A seconda del risultato Che otterremo E qui saremo Molti trasparenti Molto trasparenti Possiamo puntare A tre risultati Ora Io ho incluso Nanni e Leo Per Perché sì Va pur detto Che Benvenuti a tre risultato Benché qui si parli Di Kaizo Aermon Quindi si parla ovviamente Di una challenge Nella quale Come sapete Su 100 try 100 possono essere Potenzialmente Degli autofalkner Delle leghe Ma Dobbiamo anche ragionare Un po' Parzialmente In questo senso Per massimi sistemi Se vuoi far partire Una bet Davide Falla partire Ma falla partire Magari mentre Sto parlando O quando ho deciso Quando ho comunicato Come voglio giocare la lega Che secondo me è più giusto Ehm Bisogna dicevo Anche ragionare Per Ehm Massimi sistemi Nanni ha finito i try Traie non è un problema Leo È secondo me In una zona definibile Fuori pericolo Io direi che la win In questo torneo Ce la giochiamo A questo punto Io Tuono E poi Con il masseo Che ha finito i try E quindi non può più Matematicamente Vinci A questo punto Si paventano Secondo me Due soluzioni Due ipotesi Tre ipotesi Perdonatemi Se noi entriamo Adesso alla lega Malauguratamente Perdiamo al primo Al secondo Super 4 Ma anche al terzo E anche al quarto Probabilmente Siamo Con ogni probabilità Fuori dai giochi Non solo per La vittoria del torneo Ma anche per il secondo posto Nel senso che Diventa complesso Non impossibile Ovviamente Se dovessimo Ipoteticamente Perdere a Karen Molto 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 Difficile Se dovessimo Perdere a Pino Koga Slash Bruno Perché a quel punto Da massimo Saremo Distanti 3000 punti Ed è vero Che la Kaizo Ironmon È una challenge Che permette Grandi Ribaltoni E infatti Ribadisco Sto parlando Per Massimi Sistemi Non me lo dite Chat Che ho Più try Degli altri Lo sappiamo Ne siamo Consapevoli Abbiamo Più try Degli altri È vero Sto parlando Per massimi Sistemi Se io ho 50 try In 50 try 3000 punti Sono difficili Se li faccio GG Parlo per Massimi Sistemi Quello che vi sto Dicendo è che Per Massimi Sistemi Se noi Perdiamo La Lega Presto Che vuol dire Secondo me I primi 3 Super 4 Ci giochiamo Il terzo posto Con Poli Essendo tra l'altro Molto avvantaggiati Su Poli Per una questione Di try Questa è la prima Ipotesi Giocarci il terzo posto Con Poli Provare Ovviamente Per quanto possibile A Raggiungere Il masseo E provare a fare Il secondo posto A quel punto Penso che Tuono Vada in fuga Perché è una run Con un Pokémon Discreto Che secondo me Se sfanga Può anche arrivare La Lega Poi prenderlo nel culo Ma la Lega Ci arriva E a quel punto Tuono scappa Se io Invece Vincessi la Lega E sarebbe incredibile Perché vorrebbe dire Vincere la Kaizo Back to back Dopo 7000 try Di fallimenti Nell'arco di Poco più di 50 try E sarebbe Ancora più clamoroso Perché io avrei Pensate un po' 2 win Con punti doppi E sarei Comunque Sotto il Secondo E sarei Comunque Sotto il Secondo Ciò ho detto Se noi riusciamo A vincere La Lega E secondo me A meno di Leghe Fuori di testa Abbiamo delle chance Noi possiamo Arrivare A ridosso Del Masseo Giocarci A quel punto I nostri 1000 punti Circa che ci separano In 53 E avere Qualche Speranza Contuono Che vi ricordo È a 17886 punti Ma ha una run in corso Quindi Io Ipotizzo Almeno 500 punti In più di Tuono Per tutti quelli Che scrivono in chat Ma tu puoi fare l'album Voi ragazzi Non avete idea Di quanto sia difficile Fare l'album In 53 Tuono è stato Molto fortunato Con l'album Evidentemente E bravo anche a giocarsele Fortunato E bravo Perché anche noi Potevamo fare di più Ma non è stato Niente è stato possibile Will Donnie Scrive Partiamo però Prima giochiamo Prima capiamo Will Donnie Let me cook Io Davide Mi banni Tutti quelli Che mi chiedono Di iniziare a giocare Tutti dal primo all'ultimo Però non li sbanniamo mai più È una mancanza Di rispetto assurda Puoi prenderli E fare Annichilirli Dalla vita Tutti dal primo all'ultimo Da adesso in poi Chiunque mi dice Gioca O cose simili Lo facciamo volare Perché avete un qui di due E non meritate Di stare Su internet Bene Dicevo Tornando a noi E Queste sono le ipotesi Ovviamente C'è sempre l'incognita di Poli Che in 23 Può fare il disastro Ci può stare Dobbiamo anche cautelarci Da lui Se Riuscissimo A fare il 104% A quel punto Cambierebbero molte cose Cambierebbero molte cose Perché io arriverei A 17200 punti Il masseo sarebbe Preda Facilissimo A quel punto Saremmo Sicuramente Secondi A meno di clamorosi ribaltoni Di Poli Saremmo sicuramente secondi E Con 600 punti di svantaggio Verso Tuono Che ha una run È vero Il margine Si riduce Detto Quindi Secondo me A seconda Dei risultati Che otteniamo Possiamo giocarci O il terzo O il secondo O il primo posto Sempre e comunque Attualmente Rimanendo sfavoriti Per il primo posto Anche se dovessimo Fare una lega Al 104% Va bene Quindi questa è l'analisi Della pill Come giochiamo? Ora Fatemi fare un recap Io di cure ho Due Mumu Milk Una Max Potion Due Energy Powder Che è come non averle Un Energy Root Due Berry Juicy Su un Hyper Potion Una Super Potion Più Tre Citrus Berry Eccellente Secondo me E un Enigma Berry Allora Io inizio ad andare A vendere roba Via Max Revive Via i Carboss E poi parliamo Di un'ultima cosa Via gli Zinco Via Awakening Iron Via Calcium Via Domanda da un milione Di dollari In caso Giusto per fare L'inventario Abbiamo White Herb Power Herb Neanche lo chiedo Però Che è inutile Ma Giusto per sapere Se abbiamo una White Herb Io non la vedo Se voi chat La vedete Fatemi un Fisch Eccola qua Perfetto Bene Ora La discussione Adesso sarà Mettiamo Dark Void Sweet Wave O non mettiamo Dark Void Sweet Wave Parlo io E voi state zitti Nel senso che Letteralmente Allora Faccio la mia riflessione E poi al massimo Ne parliamo Che tanto Se parlate a caso Non serve Quindi prima vi do La mia versione Allora Dark Void È una 80 Di precisione Quindi è molto rischioso Va bene Considerato Che noi ovviamente Dark Void La tiriamo Per una ragione Cioè Per setappare In lead La tiriamo Se Dio vuole Su 5 Pokemon Magari un po' Di più Se andiamo in difficoltà Statisticamente Una delle 5 miss Quindi Ovviamente Vai a giocare Un po' Con la fortuna Io ho fatto Questa riflessione Vedetemi cosa ne pensate Poi appena tolgo L'emote E la riflessione Verde Su Il rapporto Tra quanto Ci può punire Dark Void E quanto Ci potrebbe Punire Non Hittare Un Dark Void Cioè Quanto ci potrebbe Punire Non giocare Mai Dark Void Quindi Non hittare Per nostra scelta Io l'ho pensata Così Di base La sensazione Che ho avuto io Nella mia prima Lega di setup Che è quella Con Setef Che abbiamo vinto Un qualsiasi Pokemon In lead Che ti permette Di setappare Non richiederebbe Dark Void Nel senso Che se tu Becchi il Pokemon Come ci è capitato Nella scorsa Lega Che tira Gravity Tra l'altro Se tira gravity Dark Void Tra 100 Ho fatto proprio Un esempio infelice Però Che tira una mossa Di merda Non conviene Tirare Dark Void D'altra parte La mia riflessione È questa Cioè Se Mi trovo davanti A un Pokemon Che mi permette Di setappare Tail Glow Quel Pokemon Mi permette Anche Di avere Il margine Di errore Per missare Dark Void Questo cosa significa? Significa che Secondo me C'è una coincidenza Molto importante Tra I Pokemon Che Ehm Ci Che non ci puniscono Tira Tira Cioè La riformulo Scusatemi Mi sono impappinato C'è una coincidenza Nel senso che Gli stessi Pokemon Che ci consentono Di tirare Tail Glow Senza essere puniti Di base Secondo me Secondo me Sono gli stessi Pokemon Che Ci consentono Di non essere puniti Nel momento in cui Tiriamo Dark Void Per addormentarli Su di loro Il miss di Dark Void È Potenzialmente Accettabile Quindi su Pokemon Del genere Dark Void Secondo me Blind È una buona idea Secondo me La svolta C'è Su tutti quei Pokemon Che puniscono Il setup Di Tail Glow Noi Contro La lega Pokemon Di settef Abbiamo avuto Molta fortuna Perché su 5 Pokemon In lead Nessuno ci ha punito Davvero Per il Tail Glow Che abbiamo tirato È il motivo Per cui abbiamo vinto Ma la lega Da blue L'abbiamo visto Come è andata a finire Cioè il primo Pokemon Che ci punisce Perché non tiriamo giù Il Tail Glow Perdiamo La domanda Che mi sono posto E alla quale ho risposto È Avessimo avuto Dark Void Sul Gallade Che Abbiamo affrontato Con settef Sarebbe stato Meglio O peggio Risposta mia Secondo me Meglio Perché se ci punirà Un Pokemon Per aver missato Dark Void Ci punirà Ugualmente Per non aver tirato Tail Glow È la stessa punizione Paro paro Mentre se non ci puniva Per Tail Glow Di base Con buone possibilità Non ci punisce Neanche per Dark Void Mi rendo conto Che il discorso È un filo complesso Ma secondo me Rage Cioè se io Io non saprò In lead Chi è minaccioso E chi no Ma se io Tiro Dark Void Ci perdo Poco Sui Pokemon Non minacciosi Sulla carta E potenzialmente Ci guadagno Tantissimo Sui Pokemon Minacciosi Secondo me E ora tolgo L'emote Only Il netto Tra i rischi E i benefici È a favore Di mettere Dark Void Su Hit Wave Fermo restando Che Hit Wave È una coverage Che ci serve Relativamente a poco A più 6 Tanto adesso State scrivendo Troppo velocemente Non riesco a leggere Quindi Vi lascio sfogare Un attimo E poi piano piano Quando vi acquietate Vi leggo Perché tanto adesso Non si può leggere Non so se Altri giocatori Hanno fatto Questo ragionamento Io è la prima volta Che mi trovo In una situazione Del genere Quindi ho dovuto Fare questo ragionamento Da capo Cioè il concetto Basilare Secondo me È che Dark Void Il miss di Dark Void Ci potrebbe punire Ovviamente Ma non Più Di quanto ci punirebbe Lo stesso setup Di Tail Glow It Wave può missare E sinceramente Credo che a più 6 Sia conveniente Tirare Dark Pulse Aggiungiamo Anche volendo Il fatto Che Dark Void È una call Che In mezzo Alla battaglia In mezzo Alla battaglia Ci può salvare Il culo Perché abbiamo Speed Boost Dai per scusare Che dormono Tre turni Assolutamente No Song Non so perché Mi metti in bocca Certe parole Non l'ho visto Il commento di Agua Regà Tranquillo C'è 4 Precino Che Dark Void Mi si due volte di fila Non è pochissimo Cambia poco Cambia poco E Mega Horn Perché è coglione Va bene Quella è sfiga Secondo me Però sulla carta Un Pokémon Che ci grazie Per Tail Glow Ci grazie anche Per le intate Di Dark Void Mentre invece Se Becco Gallade Gallade Di Setef Che è forte Tiro Tail Glow Mi fa 70% di vita Chiudiamo Baracca e Burattini Abbiamo perso Se lì Tassimo Dark Void Non è che lui Deve dormire 5 turni Magari ne bastano 3 Magari lui riesce A fare un hit Però magari In quel turno Io sono andato A più 6 L'ho shot Se mi sta Setup O ritenti Ritento Dark Void Io credo Che sia La giocata Più safe Quindi io me la giocherei Così Vedo che la chat In generale È favorevole Giusto una cosa Dark Void Da 10 pp Ecco Questo è un dettaglio Interessante Gli X item Abbiamo un X Accurasi Beh nel caso Abbiamo un Elisir Raga Mal che vada L'X Accurasi In caso Dal campione Sono d'accordo Cioè Valutiamo In realtà Io non ho pura Fottuta di Perish Proprio perché Abbiamo paura Di Perish Dark Void È un'idea Lo famo I'm E' un'idea Di perché Di perish Di perish Fanno Di perish Sono convinto che questa sia la scelta più giusta Secondo me anche dovessimo rimanere sconfitti Potremmo dimostrare tranquillamente che lo è stata Ora L'ultimo punto No 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 Questo Com'è che si chiama? Fabiola 2008 Questo è un 2008 Cioè nel senso Questo lo banniamo Fuori dal cazzo Tanto fortunatamente non serve Bene Grazie Ale è solo perché gli hai risposto Altrimenti non avevo visto il messaggio Ultima cosa Noi ovviamente giochiamo le chopole Va pur detto Che abbiamo Va pur detto secondo me Che abbiamo Contro quel garchomp Garchomp con attack order Io mi sono fatto una ricerca Le mosse di tipo lotta Sono 28 Quelle che la chopole blocca Le mosse con le ottero Sono 12 Di cui alcune tipo Sanguisuga Sanguisuga taglio furia Merda sostanzialmente Regà Sulla carta Sulla carta La chopole sarebbe meglio D'altra parte Se entra garchomp In lead Se entra garchomp In lead Siamo nella merda Nel senso che dobbiamo Chiudere gli occhi Tirare vuoto tetro Ok Non so cosa scegliere Vogliamo non rischiarci Garchomp Se garchomp Entra come secondo In teoria siamo a più 6 Dovremmo killarlo Se cercate A lugare i brodo Su wikipedia Esce il link Del cane di creepy Invece Se Se cerchi Analisi della situazione Perché proviamo a dare Un minimo di senso A una challenge di merda Cosa esce Chi lo sa Io giocarei comunque La chopole E vi dirò di più Siccome mi state sul cazzo Quando fate così Io adesso Ringrazio tutti i sub Che hanno sabato finora Perché loro sono me Che stanno evidentemente Allora Dove cazzo sono Oh Yamazuke Grazie per i 100 bit Intanto Ehm Oh Yamazuke Grazie per i 100 bit Edoardo Cerno Grazie per l'ottavo mese Perdonatemi Regà Non leggerò i commenti Perché Ehm Altrimenti Lo allungo davvero Il brodo Taglio Grazie per il prime Però regà Ci sta che vogliano Purtroppo Io capisco Regà Che la gente voglia Che io Giochi subito Perché purtroppo E la mamma A questi Gli dice che devono andare a letto Ehm Alle 22 E' un dramma Io me ne rendo conto Però è un dramma Perché purtroppo La mamma Ai noi E la mamma E pur sempre la mamma E quindi Un delirio Per queste persone Che non possono Seguire un ragionamento Complesso Troppo difficile Adesso godo Adesso Adesso allungo davvero Il brodo Rimaniamo in 100 Raga Le 6 di mattina La faccio Taglio Grazie per il prime Gigi Grazie per il prime Michele Salvaneschi Grazie per l'ottavo mese Comunque Gigi ho quindicesimo Taglio quattordicesimo Ehm Cutta il mago della frutta Chissà chi è Grazie per i 300 bit John Dex Grazie per il quarto mese Ho visto anche il tuo commento Cutta il mago della frutta Ho visto il tuo commento sotto il video Didier Didier Dugue Grande Drogba Grazie per il prime Pier Ferraccioli Grazie per il tredicesimo mese Ehm MSL Leva Grazie per il tredicesimo mese Ehm Talkweave Torchio Grazie per La tier 1 Alessio Moncada Grazie per il terzo mese Matteo Mela Grazie per il quattordicesimo mese Carciov Grazie per il ventottesimo mese Daniele Salanitro Ce l'ho fatta Grazie per il nonno mese Mad Kenny Grazie per il prime Perdonatemi ragazzi Ma Ehm Purtroppo le persone che danno soldi Sono ovviamente intellettualmente superiori Forse sto un po' esagerando Dai Andiamo raga Ci siamo Ehm La beta è stata fatta Penso proprio di sì Puoi ripetere che non l'ho sentito bene Allora Ripetiamo raga Secondo voi Dobbiamo giocare Dark Void o It Wave Come vi dicevo Dark Void Secondo me è meglio Perché comunque Non veniamo puniti per Dark Void Più di quanto verremo puniti per Take Glow Quindi secondo me ne varrebbe la pena Ok Intanto ci tengo a ringraziare anche tutti i follower Che hanno followato Nel mentre Ehm Ah ma Meliador per il ride Melia Grazie mille Meliador per il ride Grandissimo Melia grazie per il ride Ma scusatemi 162 spettatori che provengono dal canale di Meliador E non li ringraziamo uno ad uno Quindi io ringrazio Spettatore 1 Spettatore 2 Spettatore 3 Spettatore 4 Spettatore 5 Spettatore 6 Spettatore 7 8 9 E 10 Ringrazio spettatore 11 12 13 14 15 15 Ci tengo a ringraziare anche Poli per lo script ovviamente Dai basta Adesso vado davvero Adesso Basta mi male Basta mi male Siamo a posto raga Io entro e tiro Dark Void a spam E chi s'è visto S'è visto Anche perchè dobbiamo fare gli altri try dopo questa Quindi Poi raga per carità Dark Void può mi stare anche tre volte di fila se siamo davvero sfortunati Però Tutti i vantaggi che ci dà questa mossa secondo me sono Superiori agli svantaggi Vai Di base Un coglione Entra Dark Void Si sveglia Turno 1 Ok Non sembra però minaccioso Perfetto Legit miss qua Godon Va bene Prendili tutti ora Testa di cazzo Bene Incredibile Va bene Tira l'ultimo Ok Testa di merda Che bastardo Questa si chiama sfiga Giochiamoci l'Energy Powder Ok Tiro dritto Vi invito a godervi le nostre statistiche attuali Questa Wake Up Slap Noi abbiamo la Ciopol Ma soprattutto abbiamo 1168 di attacco speciale Questo è È Aaron di Sinno Bene Grazie Dark Void per averci fatto prendere più danni del dovuto Ma va bene così Gameplay identico Ho ancora fiducia in Dark Void Ok Rimani addormentato un po' più turni Per favore Ok Ok copia però Non me la togli giusto Va bene Sai il cazzo che vuoi Ora tail glow Ciopoli Che danno Stab qua È sempre venuto giù L'ultimo al 54 l'abbiamo beccato Quanto Quanto mi ha tolto di Vital Throne Mi ha tolto all'incirca Una sessantina vero Siamo a roll di Vital Throne Ok Ok Venem 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 No no Non curo su Non curerei su Lithionio raga Potrebbe avere una Koleotero Non abbiamo la Ciopoli qua Ok Rain Io tendrei a curarmi sull'ultimo Non abbiamo segnato più HP questo Ok Nice Ora Nasty plot Va bene Succhiami il cazzo Mo' Milk Sull'ultimo non serve fare Dark Void raga Buono Altra Ciopoli Ne abbiamo quattro Ora tre Ma che raga Non si gioca mai la Citrus qua Bisogna di più Auras Fier No tranquilli Non è vero Protect Taxi d'Armor Visto al 68 Protect Taxi d'Armor Questo A Nanna uguale Sì ci sono gli alert Disattivati ragazzi Ragazzi Può essere così sfigate Va bene Qua sua Tail glow Vai insisti 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 Porco Dio Una boost Ok Che sfigati Che sfigati che siamo ragazzi Shot Ok Che sfigati Poi sarà super efficace Se non lo shottiamo Ci incula Dark pass Dark pass Anche flinch Raga Let's go Noctaw la pressure Ah è vero Avete ragione Nice Siamo al Ok si Quanti HP Giù Questo è un coglione Sulla carta Questo è un coglione Andrebbe avere super efficaci Moomile Testa di cazzo Questo ragazzi Sai Cap Mi ha copiato I boost Questo Se era più veloce Aveva una speciale Era finita ragazzi Sarebbe stata una grande Sconfitta Tuono si sparava Una sega qua Qua tuono si sparava Una sega Clamorosa Non rinnego La play Un po' rigonziata Stai addormentato Più turni Cazzo Sì Frustration Bel danno Va bene Risparmiamo Ne due Per Lance Raga Va bene Sì ce l'ho L'Elyseer Raga lo tiriamo Sull'ultimo Se siamo full vita Poi andando a addormentare Merda Non posso tirare Aurasphere Merda Non posso tirare Aurasphere Pensa te Che sfiga Di merda Dark base Come tirargli Una 60 Phantom Sì Pulse No non tiro Aurasphere Si sveglia Mi incula Va bene Aurasphere Posso rischiarla Non serve Ok Quanti HP Quanti HP Easy Easy Matrix Easy Petto petto Spingere Direbbe qualcuno Aurasphere Ok Wheezing Questo fa danno Alla stab Questo mi avvelena Lo so Dark pulse Lo shot Poi non ho Elisir Ma Non sono messo male Void potrebbe essere Un'idea Ho fatto una Ho fatto una giocata Di puro istinto Qua Non One turn wake up Non devi Prendere One turn wake up Enrico Un'idea Crapo E tu è via Pi' forte Perché no cura? Perché avevo una paura matta Perché ho sbagliato, mi son cagato addosso Avete ragione voi Ho sbagliato Ho sbagliato, mi son cagato addosso Ho avuto troppa paura di quel Ho avuto troppa paura Mi son cagato addosso Ho sbagliato È void in tu cura qua Mi son cagato addosso per quello sludge bomb Mi ricordavo che faceva danno Speriamo nella lead qua No, non citrus raga La cioppolo è troppo importante Fidatevi Preferisco rischiarmi Dark Void La cioppolo è troppo utile Bellosso Sì 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 Non si rischia un cazzo Fulliamo con un Energy Root Sto pensando al 104% Ma fulliamo con un Energy Root qua raga Ok E ora permettetemi sta giocata qua però X Accuracy Walk up C'ho Pol Barry Quanto è il danno? Terribile Però in teoria lo tankiamo È una sessantina Teniamo anche Crit qua Uno Due Tre Walk up Break Break Crit Incredibile No scusatemi Crit Non volevo dire Crit Volevo dire senza Chopole Perdonatemi Ho sbagliato Sì sì scusate 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 Ho sbagliato io Sono confuso Mi son confuso Void Hyper Potion Ho sbagliato mossa Void X Defend X Defend Yes Dark Pulse Aura Sphere Aura Sphere Bel Lens questo Per ora Bel Lens Devo dire Mamma mia Che cancro Dark Pulse Ok però Void Dark Pulse Seconda Kaizo Vinta In 50 try Che scandalo Che scandalo 465 465 Vei stats Per chi chiedeva di Dark Void Abbiamo tirato X Accuracy Dark Void non poteva missare con X Accuracy Ora A onor del vero Potevo tenerla per il 104% Però mi prendo sti mille punti 104% Proviamo a scularlo Se Incredibile 7000 try 7000 try E poi back to back 465 Bei stats Ma sto Pokémon era troppo forte Questo è completamente scriptato Questo Pokémon non ha senso Com'è cresciuto Niente ha senso di questo Absol Non è la stessa emozione Di vincere la prima Regà Non è la stessa Non posso negarlo Ovviamente però Ho vinto con un po' Con chiama Chiedo scusa alla Matrix Io non potevo prevedere Che imparassi Il Globo a una certa Chiedo scusa alla Matrix Per quello che ho fatto Chiedo scusa alla Matrix Per averli messi In una posizione difficile 465 Bei stats Sono contento Sono contento Di aver vinto una Kaizo Con un Pokémon simile Cioè Charizard era cancerogeno Vincere con Charizard Era la normalata Te lo giuro Era la normalata Vincere con Absol È il vero twist È arrivato in pista il giovedì E ha chiesto in quanti Dopo la prima Hanno vinto la seconda Subito Così Erano in 8 E ora diventano 9 E ora diventano 9 Il predestinato Vince La Kaizo Ironman Per la sua seconda volta In carriera Bravo È la seconda volta In carriera Come Charleclerc Charleclerc E Absol vede nel futuro È un predestinato La fine Ale non lo so Non so La mia programmazione video Va tutta a troie Per sta cosa Va tutta a puttane Ma io che video scrivo Fangruz Grazie per i 12 euro Di Hype Chat Ringrazio i sub E i bit Davide Davide Ci sono anche dei raid Di tutto questo Allora Dove siamo Ma questi sono Dell'altro ieri Forse un po' eccessivo Ah ragazzi Ah quanto parlerà la gente Dicendo che perché ho vinto Nella pil non vale Quanto parlerà Già li sento Ah mi seguo Già li sento Già li sento parlare Quanto parlerà la gente Dicendo che non ho mai vinto La Kaizo Iron Perché nella pil non vale Porco dio Mi seguo Mi seguo E vi banno Ma prima mi seguo Quanto mi seguo Mamma mia Quanto mi seguo Quanto mi seguo Quanto mi seguo Bicampione Della Kaizo Iron Ma ci sarebbe FireRed Oh vabbè Allora Ehm Anzi io non so da quando ho smesso di ringraziare i sub Quindi vado qua E Daniele Sala Nitro Non l'ho ringraziato Fanculo Mad Kenny Grazie per il Prime Nico Curry Grazie per il Prime Notgl Grazie per la TR1 E Anzi Daniele Scherzavo ovviamente Ehm Dandan Grazie per il secondo mese di TR1 Salvatore Max Il processo da sconvito alla mafia Grazie per il Prime Raizu Grazie per il quinto mese Ale Beretta Grazie per il Per i 100 bit Ehm Slylor Grazie per la TR1 Chietappi Grazie per il Prime Edod Grazie per il Prime Mister Baffo Grazie per il Prime Costox Grazie per il Prime Daniele Grazie per il Prime Cibruz Grazie per il Prime Ehm Gigi Grazie per il Prime Ehm Mad Biolka Grazie per il secondo mese Ehm Leone Gamer Grazie per il decimo mese di Prime Ale Beretta Grazie per il 100 bit Regi bit che ti ho donato Inizio Lega Sono una sentenza Ehm Sono troppi Fra Non riesco a recuperarli Non riesco a recuperarli Poi Poi magari Non riesco a recuperarli È infinito È impossibile Kuroi Senshi Grazie per il terzo mese Mff Grazie per il settimo mese Ehm Tufa Grazie per la TR1 El Zorro De Oro Grazie per l'abbonamento Regalato Da Valerio Ehm Giorgia Grazie per la sub regalata La community Non c'è scritto A chi è arrivata Però va bene Natale Grazie per il 100 bit Che cosa ti avevo detto Credere nell'intervista Calabrese Ho visto anche su Instagram Sei visto Ehm Fangruz Grazie per la live chat Berabè Grazie per il Prime Magnail Grazie per il quattrocesimo mese The Neon Knight Grazie per il sedicesimo mese Tu ormai sei storico Per quanto mi riguarda Luke Skywalker Grazie per Il secondo mese Sed Grazie per L'abbonamento Regalato A Tecnolo E adesso si va Per 104 Bro Le mie cure Sono Un peluche più da comprare Solo se arriviamo a 1800 1800 sub Io vi ricordo 1800 sub Devo comprare Una valangata Di peluche Con tutti i Pokémon Che hanno giocato La Kaizo Ironmon La Lega A onore del vero Oh great Grazie per l'abbonamento Regalato al canale Bene Non è come vincere la prima Ma è sempre piacevole Inutile negarlo Sentite Ora siamo terzi Ma molto Molto più Sente molta più puzza Della merda del culo Di Maseo Perché gli siamo dietro Bene Che tu sappia Frank Visto che me lo stai scrivendo È legit Quell'item Cioè non è che È un rimasuglio Della roba Gli altri lo prendono Io l'altra volta Non l'avevo preso Sì è legit Ok Allora Adesso gli diamo la cioppolo Raga tranquilli Che tanto abbiamo Da fare un'altra cosa Oh sì Rimetto gli alert Grazie Yamazook Per il 100 Così almeno posso scontare Anche i messaggi Oh da fuck Che cazzo ha detto Ma non è vero Vabbè Yamazook Grazie per i 100 bit Vado a casa di tuono Di poi suonare Burro Città Vinto la Lega Sì ok Non farlo Per favore È fastidiosissimo Barabè Grazie per il Prime Oh sì Ezor Grazie per la sabre Regalata Foto post Lega Certo Non fai la foto Vai Grazie il Masters Per il Prime Nume Grazie per il Prime Non so perché non vadano Gli alert A questo punto Immagino ci metteranno Un attimo Saranno in ritardo Saranno overload Oh sì Didier Ugoe Ha subbato al canale Oh cazzo No è rimasto indietro Il bot Si è rincoglionito Comunque credo che sia Record Respect La butto lì Oh sì Oh sì Forse 3 mila Oh no Si è rincoglionito Il bot È finito Va bene Mentre tenete Lo teniamo di sottofondo E adesso cambiano le cose Adesso se facciamo la 104% Ce la giochiamo fino alla morta Li stai ritenendo i 3 che hai vinto? No Non li sto conservando Sbagliando probabilmente Ma non li sto conservando C'è un modo specifico per arrivare a Lugia E non lo sto seguendo La X sul pavimento Regà serve per registrare i video Così lì ci metto la sedia Non so dov'è Allora Dovrebbe essere di qua no? Oh sì Oh sì Decisamente no Mi sembra esagerato Non so nemmeno di chi siano questi messaggi Perché il bot è rincoglionito Scusami un attimo eh Oh sì Oh sì Oh sì Ma qui è un'agonia scusa Alessio sottolineatura Moncada ha rinnovato l'abbonamento per 3 mesi E Vabbè ringrazio a voce Poi si sistemava tutto Oh sì 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 Il bot Cioè sta trollando Sta dicendo le sub vecchie Però ok Rick Prey Grazie per il Prime Vi ringrazio Rega l'alert Gli alert si sono fottuti Oh sì Non mi ricordo qual era l'isola Era giusta? Oh sì Cioè scusatemi in realtà se mi concentro ci arrivo al punto che è Grazie Grazie Finita sta stream recuperatevi il video in caso su Oh sì Oh sì Su YouTube Oh sì Daniele Salanitro sottolineatura ha rinnovato l'abbonamento per 9 mesi Crappo credo in te Sono quello che ad inizio PIL ha bettato 10 euro sulla tua win Ok forse è di qua Raga dove devo andare? Oh sì Oh sì Oh sì Madocchenni ha subato al canale Eh lo so che si saprà di un'ora a fare Che cazzo vi devo dire? Facciamo sfogare il bot Nel mio carri 00 ha rinnovato l'abbonamento per 3 mesi Domenico 2 era inizio Eh appunto anche secondo me però mi son perso Oh sì Scusate ragazzi che sono anche un po' stunnato dal fatto di aver vinto due kai Notdo 2001 ha subato al canale Quindi scusami però se vado di qua Eh ma come le scendo le scale raga scusatemi Oh sì Ah ok non era questo Ho capito Ho capito 00 sottolineatura Dandan sottolineatura 00 ha rinnovato l'abbonamento per 2 mesi Dai Sono intellettualmente superiore Oh sì Oh sì Oh sì Ho sbagliato isola vero non è questa Aleberetta 99 CIRDX 100 Vuoi sapere perché vincerai questa lega? Perché l'unica volta che ho visto una lega in live l'hai vinta Dai ecrappo Oh sì Oh sì Oh sì Slilore 711 ha subato al canale È troppo indietro sto bot raga È oggettivamente troppo indietro È troppo indietro Cioè il bot non sa ancora che abbiamo vinto la Kaizo Ironman Presto indietro il rosso fuoco senza le banche super efficaci? È un po' generico da dire non lo so Allora scusami Era qua che Qua ma porco 2 Guarda come sono stupido Gesù Cristo Ma fra Ma non c'è sto item Ma non puoi accedere? Ho capito raga ma l'ala d'argento si trova accanto Che cazzo dice Frank? È impazzito Vabbè raga ma avete scammato Ah pensavo che l'avessero reso disponibile Lo sapevo che si deve ottenere l'ala d'argento Frank ha usato i cheat E ha usato walkthrough walls Io immaginavo che Cioè nel senso Io ho dato per scontato che Le switcherie sul serio Lo trovo in mid game Si beh ho capito Vabbè niente Ci ho provato Pensavo che si poteva entrare Eh no 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 Serve l'ala d'argento No 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 E infatti ero perplesso Dicevo boh Magari l'hanno L'hanno fixato Magari l'hanno reso disponibile Ok signori Il gameplay sarà identico eh Dark void into setup detail glow Unica speranza Tuono grazie per la salvo legata A cool hands leggenda Grande Mio padre No di qua devo andare immagino C'è matrix come scritta degli annoni Incredibile Ok che c'è la grandina Ok te capi che cazzo Devo fare con la grandina Domanda Perché non lo so Se io killo Blu Rosso lo affronto full vita O sono danneggiato Ti cura ok Questo con la grandina Cambia molte cose Oh azzi Per quanto io abbia vinto questa kaizo Il mio personal best è il suo secondo pokemon La vittoria della kaizo Parola di poli Vale battendo la lega Però a questo punto Speriamo almeno di fare personal best qua Sì Ah Yeah Ehi Fottuto blu Non è rosso non è verde Mi smagio Dark void Sei una merda Non ho speed boost ok Sei un figlio di puttana tu Adesso la situazione si fa interessante Bro che scandalo Bro che scandalo Che scandalo Disgustoso Ragazzi ammazzalo Tiralo giù Tiriamo dark void sul prossimo Ok Ehi vabbè Fra Niente distrutto Va bene GG bravi Azzi C'è gastroacido Sleep talk Ma come l'ho persa questa Bello perdere qua È sempre piacevole Perdere qua Ma come si fa a perdere questa Ragazzi Ma come cazzo si fa a perdere Sta roba qui Fra Gastroacido Tolge speed boost Lo addormento Sleep talk Vabbè niente Evidentemente Devo arrivare il secondo Va bene Ehm Riproviamo fuori di me Ma che cazzo Devo riprovare Muoio Che scandalo Va bene È arrivato il momento Ragazzi Oh Andrew Sei stato un elemento fondamentale Per entrambe le win Anche se non da protagonista Com'eri Ah no Però era il 18 Minchia però era buono Non era male Era disgustoso Questo 20 special Va bene 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 Oh sì Oh sì Oh sì Magna il 95 Ha rinnovato L'abbonamento Per 14 mesi Ah blu totalmente scriptato Che scandalo Pensa perdere così Dal campione Pensa perdere così Dal campione Tuono Tuono si sta segando di brutto Davvero A sto giro Questa è la sega più grande Che tuono si sia mai fatto Nella sua vita Pensa perdere così Dal campione Vabbè Vabbè ci ha giftato comunque L'ensame Va bene Raga Ehm Purtroppo Il 104% Ci è andato male Poli si è permesso di dire Che faccio schifo Non so se è chiaro L'elemento che ha detto Che faccio schifo Solo perché ho vinto Due leghe in quattro giorni Solo perché Scheriscio Oh sì Oh sì Oh sì Scherzo 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 Allora Niente raga Ehm Mi prendo Un attimo Per dire che Cioè Ehm Due wind Da Kaizo Ironmon In quattro giorni Se mi posso permettere Esattamente Come me la sarei Aspettata Cioè A Budi è successa una cosa Molto simile Anche lui ci ha messo tanto E poi è impazzito Ehm Ehm È incredibile Sono Bi campione Dalla Kaizo Ironmon Sono bi campione Dalla Kaizo Ironmon Con un Absol Bene Abbiamo 47 48 Trime Obiettivo Superare il Masseo E sperare che il Pokémon Di Tuono Collassi al suolo Il prima possibile Wow Bi campione Cambiamo il titolo Alive Così almeno Non tutti lo chiedono Kaizo Vinta Due volte In Quel vero Quel vero Può essere Il nuovo Alert Dalla Super Chat Di Twitch Che Spero che qualcuno L'abbia clippato Perché in caso L'alert Delle Del live chat Di Twitch Potrebbe essere Skill issue Aaaaa Sa neanche Come ho fatto a fare Quel verso Simo Cry Grazie per il trentunesimo mese Ehm Cairo Grazie per il 25 Non mi ricordo Sto ringraziato Hai regalato le sub Ma non so Non so dei bit Ehm 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 Ragazzi Mi perdo delle sub Dovete accettare il fatto Perché oggi L'alert è impazzito Perché l'ho mutato Durante la lega E adesso se lo smuto Mi dice Mi fa mandare Tipo Dai che la possiamo Oh si Oh si Oh si Giorgia XB7 ha regalato A clanat03 Un abbonamento Giorgia XB7 Gifti dati A run sub To clanat03 They have given 3 gift subs Oh si Oh si 21 minuti fa Non per dire 21 minuti fa Quella sub Va bene Ora Ehm Aggiornamento classifica Aggiungete 2000 punti A me Prego Questa è la classifica Avete 10 secondi Aggiungete 2 punti A me Masseo dista 1300 punti Tuono ne dista 1600 ma una run in corso Tuono Vi auguro un bello Shedinja nelle costole Ovviamente Ehm Sportivamente parlando Si intende Ehm Comunque noi Facciamo il meglio Eccoci qua Alle vecchie abitudini Goldin Sketch Goldin Va bene Secondo te è vero che i pochi della portata Vanno più avanti di quelli scolati Nell'erba Ehm Ehm E' vero solo perché Hai questa percezione Cioè nel senso E' Percettivamente è vero Ma concretamente non significa niente Cioè non è che non significa niente Non Non E' E' una percezione Perché Nell'erba Altra spesso ti accontenti del Meno peggio Muori Quindi succede meno volte Quindi meno Vedi meno poco muore Spiegate in 4 e 4 8 Ehm se riusciamo a fare out Quel drop in difesa non mi è piaciuto Non che abbia scelta Ok Non ha mostro per killarmi Questa è un'ottima notizia A meno che non crit Ovviamente Pure col crit Rimanevo vivo Goldin Apprezziamo il tentativo Che ti devo dire Apprezziamo il tentativo Il tentativo Non credo onestamente Che Shadow sneak Dicevo non credo onestamente Che tu possa fare qualcosa Evoran a livello 33 Sembra complesso Sono 3 autoflab di seguito Eh vabbè Ragazzi 3 autoflab di seguito Onestamente Non è così improbabile Avrei capitato di farne 5-6-7 Capitato anche di stare 20 volte In lab Ehm Senti Ne catturo uno blind Giusto per Levarmi i goldin dal cazzo Che è troppo lento Comunque Ambipom Non è un po' Inguardabile Sulla carta Ecco Poi però Lo guardi davvero Va bene Questo è un troiaio C'è un po' Comunque volvano Per Leafstone Volendo Ha più belli stats Di Absol Questo dovrebbe far riflettere Ok Questo dovrebbe far riflettere Se non altro Esatto È veloce Quindi può scoutare Vai Warthortle Sidra La merda Ho capito Se hai vinto Absol A questo punto Ma quell'Apsul Drag Era un miracolato Secondo me Matrix Aveva una quantità Di V Perché per crescere Così bene Non si spiega Altrimenti Sì andiamo a prendere L'item di tuono Comunque tanto Dobbiamo scoutare In quell'erba Quindi Peccato raga Per essere di nuovo Morti al secondo Di blu Ma ce l'ha Proprio scammato Mai vista Una sconfitta Del genere Ok Tu mi interessa Con questa difesa Piuttosto che scoutare Mi taglio le palle Politood I Poudon È un Pokémon Interessante Ovviamente Signal Vabbè perché Gli ho fatto Conversion Giustamente Absol Ha vinto la Lega Assolutamente Sì Due win In quattro giorni Certo Poi Siamo stati Annichiliti Da Totalmente Annichiliti Da blu In una maniera Molto divertente Ma va bene così Senti Via Lo so che Polly diceva Che Absol Non poteva fare Lega Infatti secondo me Polly si sbagliava Di grosso Cioè nel senso Non è che mi dava Per spagionato Diceva che Secondo lui Non poteva fare Lega Ma io ero convinto Che Absol Potesse farlo Io ero convinto Che Absol Potesse fare Il 104% Adesso Non è sì Ho detto che Dove beccare Una Lega Medio facile Ma Polly Lee Non si è accorto Secondo me Di una cosa Non è Mai una questione Di Lega Medio facile Nel momento In cui Addormento E setup Lo è poco Lo è raramente La Lega Poteva essere Difficile Quanto vuoi E che Giocando con Dark Void E Tail Glow Io riduco Sensibilmente Le potenzialità Di rischio Certo Poi Dark Void È stato Vitale In alcune circostanze Quasi un'int In altre Però Secondo me È proprio Il discorso Di Lega Facile Medio Difficile E Quando giochi Un Pokémon Del genere In realtà Sta tutto In quanto Mi sarei Dark Void Ed in Ed in effetti È stato così È bello Ancient Mi demolisce C'è stato un ride Raga Ho visto un tizio Che veniva da un ride Però Non ho gli alert Quindi Grazie Trainer Fromoen Per il ride Benvenuto Simo Graito Ringraziato Grazie per la Samba Ci ha proprio Rectato Ragazzi Ci ha proprio Rectato Ci ha Annichilito Niente da dire Sì Ancient Power Speciale Raga Ma Ti dirò Va bene così Quel Megami Win lead È stato Un disastro C'è proprio Hard counter Della nostra strategia Meglio beccarlo Lì Che altrove Ci sto dentro Vai Eh ho molto culo In questa settimana Sì sì Molto molto culo Ho avuto molta fortuna Verrebbe da dire Un po' Finalmente Ma resta innegabile La sculata Mostruosa Che abbiamo pescato Sì scusate Ho detto Meganium Volevo dire Mi smaglio Ovviamente Mi sono sbagliato Eccoci qua Perché me lo aspettavo Minchia che c'è Esso Rimetti gli alert No Davide Perché se rimetto gli alert Ecco cosa succede Oh Forse sono tranquilli Vediamo Forse sì Oh sì Oh sì Oh sì Oh sì Si sono sistemati Oh bene Finalmente Grazie a A Shiba Per la sub regalata Ora ci sono gli alert Senza gastroacido Lo distruggevi Sì Quello faceva Slip talk Raga Cioè Disgustoso Però sì Sarei stato a più speed Non sarei stato auspidato Da Non sarei stato Auspidato Da Da Lithium Perché avevo speed boost Raga Mi ha tolto speed boost Ho perso Ci sta Ci ha andato molto male Vabbè Però il resto Ci è andato bene Oh Mastar Eh Acquatail stub Siamo dai all'otto Bestio Allora Bestiodon è una merda Però va catturato qualcuno Qui rischiamo di morire Da un momento all'altro Io penso di provare Bestiodon raga Prendo blind Eh È un po' peggio Di Di Omastar Però Onestamente L'itema è buono Cioè la mossa è buona Fra anche meno Vabbè Questo è un cesso Questo Le mosse Sono da lega Solo quelle Però Può farla fatica È vero Se ci arriva una per quattro Tosta Facciamo fatica E quello sarebbe svoltare Boh Ha le mosse Magari Scamma dei punticini Alla torre Che ne sai Troviamo una stone evolution Forse si fa la stone evolution Ma a parte che C'è Di cazzo sto parlando Questo umore Vai Chatter Va bene Ok Questa è fuori Eh Cerchiamo Levoran Ma Dobbiamo prima arrivare A dell'erba nuova Dai Prova nell'erba La per quattro Eh ma abbiamo trovato Dei tipi terro Dei tipi lotta Raga Non mi sembra Ma guarda Chi c'era qua Doflamengo Cr96 Cir di X100 Innanzitutto Complimenti per la seconda Win In secondo luogo Direi che Al netto del bene Che ti voglio Facina Che ride a crepapelle Questa vittoria È stata clamorosa Solo meno Di quella del sidra Vincitore Della Kaizo Su FireRed Con NoGuard Puro gelo Non può NoGuard Non c'era su FireRed Non so Non so Di cosa tu stia parlando Finchè fate solo volanti E regà Tanta roba Grande Grande Cioè se questo Bastido Non riesce ad andare avanti Ragazzi Mi sparo in testa Gyroball Beh è stab Con 18 di speed Potrebbe pure far danno Tanto di pp Non mi sembra Di avere sti gran problemi Tolgo sludge Gyroball è fisica Una stab Mettile E Q sarà Sai che sono morto Fatica 3 stab Eh trovale Allora qua Tanchiamo in teoria Leafstorm Tanchiamo anche Outrage Va bene Coglione Ciao Vai Buono Che scandalo Sto Pokémon Immagina Entra uno adesso In live Mi vede trastare sta roba Con questo bai Se serve un'impresa Di arrivare da Valerio Se serve un miracolo Arrivare da Valerio Plot twist Fa Valerio Minchia ragazzi Se fa Valerio Se sta roba Fa Valerio Impazzesco No Prova a fare Questo pigliamosche qua E poi si cerca E poi si cerca I voran Da qualche parte Un tipo Erba Abbiamo trovato Un whipping bell Magari ci butto un occhio Su Dex Se è in zona Ok Bel crit Ah Tailwind brutto Perfetto Non ho più sturdi Oh no Oh questo ci fa livellare Come dei matti Oh si Oh si Oh si Chatter raga Solo mosse volanti Incredibile Che ragazzi Io sono uno sculato di merda Che culo del cazzo Grazie Trainer from home Per la sabre galata Ma che culo di merda Che schifo Ma Imbalazzante Se posso permettermi Col cuore Questo bestio Non altro che Andesco Con te wind Potevi fare gyro Non so se influenza Sai Forse si Fra Thunderstone Caverna preferibile Oh si Oh si Oh si Wildwolf Sottolineatura 94 Ha rinnovato L'abbonamento Per 15 mesi Grande bella Vittoria Crappo Grazie bello L'ho vista dal posto di lavoro L'intera lega Grazie wildwolf Allora 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 Ehm Scusami un attimo Dex Così Per sport No C'è Whipping Bell alla Grotta Ma è solo con Surf Che scammata che ho preso Dusk Stone Minchia ragazzi Le ho tutte eh Se non trovo neanche un Evo Run Sono quasi sfigato direi Ah qua scusate Sto sbagliando Max Potion Cazzo non mi fa rosigare con delle cure Questo non lo trasterò mai Vediamo dagli Unknown Cosa c'è Adesso scauto qualche Evo No vai affanculo Va palla di merda Via Oh tre Stoncio Oh sì Oh sì Uno qualunque che si volva con quella Grazie Crospol per il Prime Bella Crappo Tutto bene No invece grazie Un Unstone Meritate dopo mesi di sfiga Sustacia all'infuoco Grazie mille Bello Sì 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 Eeeh Meritate Sono meritate Poi c'è un sculati di merda Ma quello è un altro discorso No weeping bell Non è l'uno per cento Una grotta ragazzi È quello con surf Questa era una per quattro Ok Il terzo che vedi Non è l'acqua Ed un sparsa All'uno per cento Ditem Perché non trasti questo cesso Si è risposto da solo Gli altri streamer cosa dicono Io sapevo Due terra Uno mare da poli Ciao Anch'io sapevo così Io ho visto che altri streamer Dico che solo l'acqua E allora qualcuno parla Giusto per parlare O perché Pensa che Sia rimasto uguale Art Gold Alternativamente Bidu Oh raga Se non c'è un cazzo Ti gioco Bastioni Gran Sasso E vaffanculo Non c'è niente Raga No lo switcho solo per un evo garantita Non per Non provo ad entrare in torre Con cosa A meno che non ci sia Un manchlax Ma Non mi sembra proprio il caso Mi sembra che attorno Quando va cercato in l'acqua Gli è riuscito Quattro su tre Boh raga Cioè non lo so E' tutto un torneo Che mi date delle informazioni E adesso si scopre Che sono false Oh Non c'è niente fogglie del Mi sembra Il Ou E E Grazie a tutti Boh raga non lo so Sì lo so che normalmente si trovano certi Pokémon E' anche vero che ci ha messo la mano Però raga c'è In me sta cosa qua che mi date informazioni false a cazzo Per 30 anni mi girano Mi fanno girare i coglioni Adesso mi metto a cercare un po' Scusate la fatica di 3 staff Ma secondo te la Vabbè ma perché tu sei convinto che ne manchi una Ne mancano due Earthquake non è stab ovviamente Pensa te dio porco E' comunque quello con surf Cioè avevate pure ragione Quelli che mi dicevano adesso che le cose che mi avete detto Fino all'altro ieri era falsa Ed era comunque quello con surf Cioè non posso più dirlo che uno più inculato di me non esiste a sto mondo Però guardate che cazzo è appena successo Va bene andiamo Però perché devono esserci in giro informazioni false a caso? Che palle Si può dire che palos palos Oppure non va bene Va bene tiriamo dritto Ehm Vediamo cosa c'è qua Bello Vai Allora frate Questi sono un po' problematici da tirare giù con altre mosse Gyroball non fa niente E qui purtroppo me Verrebbe sinceramente a tirare Q E tirare Aurora Beam Quando ha una super efficacia Questa è la mia idea Fossa Eh una per quattro C'è meno Beh magari ce ne spettai No non ci fa niente Bella difesa che abbiamo tutto sommato comunque Vai Qua quando possiamo Oh Gesù Cristo Ma avevo il terremoto Ragazzi non merito un cazzo io Si scusate mi avevo il terremoto No niente ho spento il cervello Che vi devo dire? Vabbè Diciamo che ho risparmiato Sotto terremoto raga Diciamo A parte che è vero Crobat sarebbe stato immune anche sotto terra Vero? No non è vero Sono il più grande giocatore della Kaizo Airmon di sempre L'avevo previsto L'avevo previsto L'avevo previsto Eh quando si è forti raga Quando si è forti Mmm Downstone È impossibile per me Avere un Pokémon Che si evolva Ma boh si tira e cuce Oh no Tuonomon No sul prossimo Chiunque sia Risparmio Ok Si vedo chi c'è all'ultimo piano raga Sono d'accordo Ma vai affanculo Ma testa di merda Black Belt Non ho niente per il PP Sì vero Fibas Fibas Vedi come reagisce Fantastico Ucciso da Fibas Bene Ok Allora Io proporrei Pozza Into fuga Metal Burst Questa è un'ottima notizia Ma io un tentativo Per il clear Lo farei Perfetto Cioè mi viene da chiedermi Se 30 punti Sono worth O se almeno qui in torre Voglio rischiare qualcosa Tanto questo Valeria Non lo fa mai Forse voglio provare A rischiarmi Qualcosina Io tenderei A rischiare Il full clear Per 30 Se perdo per 30 punti Raga Bello Ci sta No Giocati un EQ Qua Poi nel caso Into Aurora Bim A bustarti A bustarti Ok Ninthase EQ Into Cura con selvatico No Che sfiga Raga Eh Un po' gridi qua Comunque curarsi Ninthase Ci avrebbe sciottato A prescindere Con ogni probabilità E una per quattro Crappo E fatica Il famoso Ninthase Di tipo lotto Unlucky Vabbè Ci hanno tirato Solo per quattro Su sta torre Ci sta Va bene Non aveva molto Da consegnare Al mondo Questo bestiodon Per quattro Gio Per quattro Ragazzi Centro Non ci sono più I gettoni Va bene Dai Questa Questa La regaliamo Agli spettatori Questa La regalo Al pubblico Eh Sarebbe bello Se facessi Memento Ma la cpu Del rivale È studiata Per non farlo Ma sei Ma sei stupido Lo sapete vero che se uno avvelino con cross poison potrei avere delle chance No raga No 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 inaccettabile Proporrei una clip da mandare in chat a poli qua Non so Oddio Evoluzione Evoluzione Ho preso i punti dell'evo Non ci ho pensato Non ci ho pensato Ho preso i punti dell'evoluzione Non ci credo 140 punti Ragazzi Guido Si è fatto Valerio Guido Si è fatto Valerio Guido Si è fatto Valerio Che scandalo No raga Non c'è più quella fatica No way I punti migliori Altro che l'ens Clip in to chat di poli Gli daremo molto fastidio Eh ma questa la deve vedere Mi dispiace Bravo Burmi Grande Raga Rai quazzo che mi fa 3 PS Che scandalo No raga C'è Fuori dal mondo A livello 8 Eh immaginavo Che sei un incubo Prendi gli item E poi ci ragioniamo Max Repel Oh Max Repel Mi dà subito un po' Come uno all'otto Sapete che quasi quasi Mi sembra l'idea migliore Non mi è piaciuto Quel danno di Tiff Né Udor Sleut Allora propongo Propongo di Max Repelare Pokémon all'otto Intu Pregare nella cura Qua c'è un Gardevoir Venisse fuori Potrebbe essere Eh minchia ma non Sido Sido provo a fuggire Raga Qua so che c'è Gardevoir Sarebbe un buon Pokémon Va bene Firo Switch Raga Guardi guardando Aveva Udor Sleut e Tiff Non sembrava Oh si Oh si Oh si Prendi cazzo di uccello Pazzesco E Bella crappone Come va Switch Figa ma è neanche inguardabile Questo Oh giochiamo Perché Dynamic Punch Magari neanche no Però Grazie a Imcanto Per il Prime Benvenuto Requazzo avrà Il rivale avrà Requazzo per tutta la run A z Non devo vincere Devo fare punti Va bene così Ogni Valerio che esco È oro Oh possiamo cercare Raidon È vero Il problema è che siamo un po' lenti Con sta roba Quindi Vediamo Octillery Sandstream Sì no 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 442 di base stats Ottimo per la Lega L'ho preso sto item Sono impazzito C'è sta Motim Sotto in Max Repel Ragazzi Ma ne abbiamo uno di Max Repel Ci siete o ci fate Ne abbiamo uno di Max Repel Non posso sfruttarlo più di tanto Oh sì Sì hai broccato il tracker Adesso lo fixo Fede 426 ha subito al canale Grazie Fede per il Prime Oggi raga vi anticipo Che a meno di tragedia Con i try Si tira l'unghia Che vorrei evitare Di arrivare anche lunedì A giocare la pill Lo sapete che l'hanno estesa Di qualche giorno Per permettere tutti Di finire i try Ora lo sapete Ma pensa te C'è il protector Ma poi perché sono andato In quest'erba Raga Sono un coglione stupido Fine La Matrix Si è messo tutte le carte Ma non sembra Volby Toctilery Sand Stream Mamma mia Che merda Che c'è in giro ragazzi Magari non hai Solo Sand Stream Sì raga Lo so che ho il Repell attivo Ma se ho 13 PS Forse vado a curarmi Fa niente il Repell No lì c'è la Motim Che mi tritava Qui se mi dessi qualcun altro Ma sto try Ma sto try ha già Secondo me sto try ha già fatto abbastanza Ti dirò Con quella Evo Oh Finalmente Un Pokémon semi-umano Pure troppo Magari hai attacco speciale Meglio ancora sarebbe stato Questo Questo era Autofalkner Questo probabilmente Autofalkner Ti direi peccato Cattura difficilità Eh Non molto fortunati Sinistro Meglio Meglio Spoing contro Gabite Che Giraci contro Gabite Che Gabite contro Giraci Con ogni probabilità Levitate Oh buono dai Sia solo Mosselot Dai Quale Pokémon serve più adatto Per svolgere L'oneroso compito Di riforgere La sinistra italiana Qualcuno risponderebbe Zekrom Io ti direi Io ti direi Ma Absole non sarebbe male Absole anche solo Per la Windime Dentro Absole Fran No speranze Barriera Ha funzionato Sceptile mi sa Da segretario Del Partito Comunista Particolare Come scelta Effettivamente È a capo Tipo della giungla Lui è il boss È grosso Sta nelle foreste Tipo c'è che varano Eh Sceptile Sceptile è un boss Che vale In effetti Ah ci sta Destra Però Sceptile Lo vedo più come un rivoluzionario Più che un segretario di partito Cioè se qua non è proprio un politico Ah però Dark Void Ah però Razor Leaf Potrebbe pure killare D'altra parte Che culo di merda Ragazzi Sono la persona più sculata Di sto gioco Non esiste una persona più sculata Di me Non esiste Cento punti Fa vomitare sto Pokémon Fa schifo il cazzo Che cazzo ne so Voleva Minlook Localizza into Dark Void Capiamo Che scandalo Che merda È brutta cosa Che è appena successa Oh sì Basic 292 Ha rinnovato l'abbonamento Per quattro mesi Deliberd Ah no Ho sbagliato Oh sì Oh sì Oh sì Grazie per il parco Sia Ax Pasca Ha rinnovato l'abbonamento Per sette mesi Dai a Crappo Posso dire che io Cero ad entrambe le Wind Ti siamo dall'inizio Un po' Venom Ma un po' anche Moth Se ci pensi Lui è V E Rimpe Io ti vedo in chat Io ti chiedo Di uscire da questa live Perché è tempo che tu possa avere un collasso Un collasso neurologico Io chiedo a Rimpe della Matrix Che è in chat Ogni tanto lo vedo Di smetterla di farti del male Di dimenticare Dimenticare tutto questo Ovviamente Eeeh Ah ragazzi Ho culo Oggettivamente Sto avendo molta fortuna Non ho mai visto una roba del genere Nel 7000 3D Kaizo Ci sta Meno mille dal masseo Bene Comunque Oh l'ho finga round Che sto di sotto Bene Tornerò a Scouterò in lì di più opportune Si sta rendendo indietro tutto Ah questo è un buon modo Di metterla giù Oh Aerodactile Lo sai Però lo sai Magari no Bene Sto aerodactile È un coglione Cerchiamola per 4 Arroccia Famosa per 4 Arroccia Che Venomot Prende Sempre capo Capo settimana scorsa La fortuna non esiste Beh lo penso ancora Va bene Mi è chiaro il concetto Ah si Beh tanto non fuggirò mai Provo a prenderlo Sperate che lui faccia altre mosse Cringe Oh non sembravano Inguardabili Danni Ah Slow start Non l'avevo visto Fantastico Comunque era da prendere Arrivati a quel punto Eh non bene Non c'è una fatica Di slow start Non c'è più No non c'è più Adesso c'è stall Giusto Ok ho intanto Bene E' la per 4 Ho la per 4 Rocce da Graveler Eh già Ho la per 4 Rocce da Graveler Peccato Che Rock Slide Sia una 75 di potenza E non una 120 Vero Un dramma direi C'era Absol Rock Slide Rock Slide Da Graveler È una 440 circa L'obiettivo è ricevere Una 720 Quindi cos'è che ho visto qua Absol Graveler Sanker Vero 2 Contra Interessante PJ Per caso Per caso Sai quale Pogon Come No Beisatz Che abbia mai vinto Da Kaizo Mi risulta Un Togetic In qualche Kaizo Budimon Mi risulta Un Togetic Mi risulta Un Sidram Altri Non li so Allora Budimon Into Absol Potrebbe essere Anche una Play Se lo ribecco Al 3 Provo a Scautarlo Ti direi Che è Lento C'è Rim No C'è Rim Raga 450 Di Beisatz Non è Cioè È poco Ma Non è Più Poco Di altre Aia Non si trassa Azzardo Troppo Debolezze Guarda L'abilità L'abilità Potrebbe essere Un problema Banette L'ha vinta Raga Banette È 455 Di Beisatz Guardate L'ultrager Di quelli Che vincono È buono Le Beisatz Di Banette Non sono alte Ma voglio dire Togetic Ha 405 Sidra Tipo 4 Oddio Sidra Ha 440 In realtà Quindi Penso che sia Togetic Quello più basso Che risulta Vincitore Poi in realtà Al solito Quando dicono Ho vinto La Kaizo Ma non l'hanno Streamata Non è che ci puoi Credere Ci devi credere Fortissimo Ok Una mossa Bannata Quick attack Questo per me È un gabinetto Vai Quale Tutto che ti carica Non lo so So che c'è Non seguo Così tanto La Kaizo Iron Man Senti Andiamo gli Absol Andiamo con Se vuole starmi a stall Fa fatica Fai fatica Ma ha fatto Quick attack Perché dovrebbe avere stall Claydola Anche più che Absol Scusate Stai mi ha fatto Quick attack E poi ha fatto Drain punch Prima attaccato Non per stall Ma perché era Quick attack Prendiamo Claydol Vai Comunque 500 base stats Claydol Non è un gabinetto C'è nel senso Di base Non è un gabinetto Lui Possiamo parlarne Se volete Minchia Questo può fare Se vuole la fatica C'è la fatica Di vincere Senza attaccare Mai Esatto Stavo pensando A quella Questo se vuole Se gli viene voglia Primi due allenatori Tre Pokemon Non so Neanche tanti Con le cure che abbiamo Sì Mirror coat Vale sicuramente Come attacco Non ho dubbi Senti qua Cos'è che c'era Con Baskin Starmi Ragazzi È un cesso Io proverei La fatica Chiedo Un attimo Raga scusate Domanda velocissima Anche se penso Di sapere La risposta Però voglio Una conferma Per la fatica No damage Mirror coat È considerato Damage Oppure Non è considerato Damage Ok Sì Item da tuono Forse non l'abbiamo Ancora preso Con Baskin Trastabile Boh Raga Sincero No Se sculo Tremon Magari riesco a fare Una fatica Capito C'ho delle cure Sono abbastanza Resistente Io Sodapop C'ho molte cure Non conta Ok Perfetto Immaginavo È ovvio Che non conti Raga Vai 37 magic coat È difficile Allora Intanto è mirror coat E poi mirror coat A priorità negativa Vai Proviamo sta puttanata Tanto di meglio Non c'è Raga Quello starmi lì È un pacco Atrocio Ok Problemi Oh sì Oh sì Oh sì Ok Buono che perde tempo Grazie mille per il prime Lorim Altro grass knot Nio slash Eh Prima Magari ci va di meglio Sui prossimi Dai Lo reggevo Pensa Ero a roll Però grass knot È una mossa forte qua Magari le prossime Non ce le hanno Era da rischiare Eh Col senno di poi È molto facile Lime Mack Lime DOI Sì Sì Vabbè Ragazzi Ho Magic Guard Mi ha fatto payback Dove cazzo voglio andare Guarda che danni Che fa Dove cazzo Voglio andare Minchia Che merda Doppia Super efficace Blind a caso Pure con la scammata Di synchronize Che se voglio provare A giocarmela Non riesco Perché sono burnato E non faccio niente Di dive Il mio attacco Oh sì Oh sì Vabbè peccato Oh sì Grazie Gigi Per il Prime Peccato perché Abbiamo scammato 140 punti Non è male Non aveva niente da dire A livello di Pokémon Siccome valeva la pena Provare fatica Destra Cioè Toxicroak Scusate Dragon Rage Un polio impiantato Devi essere Bene proviamo a fare Autofalkner Con questo Ovviamente Credo che tu mi devi Prendere una bella mossa Toxicroak Grazie Se mi dà una run Ragazzi Si gode Enigma Barry È un Pokémon Molto carino Ragazzi È molto carino Questo fa punticini L'unica cosa È che Non ha mossa A parte Dragon Rage Quindi Diciamo che Se accompagniamo Dragon Rage Con una speciale Potrebbe starci L'item di Tuono Lo prendo con più speed Regà Con Solo Enigma Barry Con Dragon Rage Non serve Andare a rischiarselo Ok G Snabbal Toxie Una speciale Da accompagnare Dragon Rage Ti chiedo Grazie Nel senso Nel senso Nel senso Poison Ghast Poison Ghast Direi Poison Ghast Che difficilmente giocheremo Iron Defense Potrebbe essere pure una giocata disperata Poison Ghast Lo è molto meno Ok Posso prendere per 4 La Psychobus Si deve sempre essere Ragazzi Un Pokémon Psico Guardate che non è semplice La fatta è facile Ma non è mica facile Non è mica semplice Stai in lizza per la fatica Quale fatica? Ti prego Non nominare La fatica che penso Che tu possa nominare Che è scomparsa Da tipo 3 settimane Per favore Non farlo Tecnician c'è da dire Tecnician lo sfrutta benissimo Porco 2 Mai visto un po' Con che sfrutta Tecnician così bene Vai là per 4 Con eliminazioni Mi pare sia 120 No perché Semplicemente Non prende danno Da per 4 divinazione Anche in questo Genso non sbaglio Correggetemi Non dovrebbe Cercare Type Effectiveness Deve essere Super efficace Per 4 120 Stub Quindi Psychobus Sostanzialmente E' un enigma Questo Pokémon Enigma questo Pokémon E basta Nient'altro Va bene Abbiamo un nickname Com'è che si chiamava Il personaggio Di Triangle Strategy Enigma Il saggio tarocco Si chiamava A Enigma Giusto Con la A Lo chiedo a chi Ha giocato quel gioco L'abbiamo stremato Quindi non avete scusa Sembra che si chiamasse A Enigma Che ovviamente Si legge Enigma Perché E' latino Fine Personaggio Fallitissimo Che però Fallitissimo Però In uno dei finali Diventa tipo Uno dei Boss mafiosi Di Sabulos Se Meditate Fai Psychobus Vale Meditate È un tipo Psico Sì Psychobus E Psycho 120 Sì Stub Sì Ok Item lì presi Io Sincero Con Dragon Rage Mi faccio Il pigliamosche killer Non ho preso L'item di tuono Eh Regà Questo significa Essere dei fallete Poi lo vado a prendere Sì No Volevo andarci Poi mi sono messo A dare il nickname Sono stupido Poi ci vado Time Scout Lo Meditate Regà Sapete vero Che abbiamo Dragon Rage Mi viene sotto La caramella Penso E sarà Che forse Non si ottiene Magmarizer Ci invoglia A tirare dritti In questa run Un po' come del genere L'ultima cosa che penso È metterlo a repentaglio Con una per quattro Stub Sinceramente Anche perché Allora Se è vero che Cercare una fatica Ci metterebbe In una situazione Molto positiva Per il secondo posto E' anche vero che Ve lo dico chiaramente A me Secondo Terzo posto Mi fa una differenza Davvero minima Quindi io provo La long run Tanto ormai A meno di miracoli Di Poli Il terzo posto Ce l'ho Poi se Poli Riesce a fare Tipo album E svolta Bravo Ce la giochiamo Ancora Ma è tra terzo E secondo posto Mi cambia al giusto Provo a fare Long run E a ripigliare Tuono Se riesco a fare Magari album Con long run Starebbe Bansom Scaldano Pover Maguar Preferisco Guarda Secondo me E' meglio Che arriviamo Proviamo ad arrivare Alla zona safari E poi lo vediamo Nel dex Io la penso così Poi vabbè Bello questo pigliamosche Bello questo pigliamosche Non male Se arrivi sicuro Ti danno 25 subs Se arrivi terzo Solo 5 Hai capito Capito? Questa mentalità Di chi non pensa I soldi Non so nemmeno Chi vince Quanto prende Non ne ho idea Non ho neanche Ho firmato Ho firmato In realtà Alcune Ho firmato In bianco Non so Quanto ci avrei rimesso Da ultimo 70 Sammi E' una porcata Giusto per il meme Allora senti Un enigma Barry Me la gioco Ne ho 8000 Allora Qui Bro Sarebbe da fare Dragon rage Per la mossa Ma io propongo Prossima mossa Dal 17 Io propongo Dragon rage Dragon rage Rockbreaker Abbiamo un max Eter Giocando così Dovremmo arrivare Più o meno tranquilli Abbiamo un max Eter Giusto si Dovremmo arrivare Senza patemi In cima Oh si Oh si Oh si Chris Sottolineatura Follow Sottolineatura Grazie Chris Follow Creepy Benvenuto In stream speed Non è piacevole Con le evoluzioni Casuali E dopo più di un anno Sono tornato in live Buo enigma Vedi un po' tu Grazie mille per il prime Chris Quella seria Madonna Farò mai più Nella mia vita Fatica no cure Non c'è più Vabbè ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Boh enigma Cioè Una 90% Polytod Va bene Allora Aspettiamo Tirare l'ethere Tirami il psycho boost A questo punto Mossa Bravo cazzo Bravo cazzo Bravo che cosa mi hai fatto Bravissimo Questa è ottima Questa è eccellente Altro che Con tecnico Questa è una 90 di potenza Questa è bella Bella Bellissima Stia il dragon rage Qua Come direbbe qualcuno Non tutto è oro Quel che luccica Ho una burn hill Dai Finiamo questo Giochiamoci un po' di robe Shockwave Ok Allora Polyl 5 Ok Va bene Ma raga Mi tirerei una pozza Non rischierei molto Qua onestamente Etere più pozza Peraltro Tiro Parti da etere Magari Ok Sicuro serve Bossi Abbiamo ancora due allenatori Ma certo che rega Vabbè Vabbè Siamo full video Dai Vediamo così L'enigma Proviamo a tenerle per folker Contro folker Ci cureremo con quelle Immagino Dai Pochi hp Che muore eh Mi raccomando Magnitude 9 Super efficace Possibile avere un gameplay facile Con enigma Vabbè Un enigma Tirala Tanto voglio dire Folkner è una Ci riusciamo nelle due lotte più importanti Tanto l'enigma si brucia Non si può dare in back Quindi voglio dire Oh si Grazie frank Per quante Cazze Regalate Grazie per le 5 sub Oh c'è la possibilità che shockwave Sia la play ottimale Qui in realtà C'è una 90 di potenza Qui Ecco tipo su tentacle Io me la giocherei E questo avrà sicuramente Più di 40 hp Gast impossibile Te lo giuro Non ricevere gastroacido Into extreme speed Ok Ora non abbiamo più technician Non che ci siano problemi in merito Dai Torre fatta Proviamo Folkner Intanto si è fatto i suoi punti Oh MT Brine Dio cane Che pokemon Senti Porca madonna Peccato che è fuori da Technician Ma Questa è bubble beam Sto pensando Se togliere rockbreaker O flare blitz Fair blitz Ci da recoil È sempre un'inculata Rock breaker Ci blocca Però in alcuni casi Può essere una buona idea Ovviamente Entrambe sono anti Shedinja È anche vero Che fair blitz Ci da più pp Per Shedinja Togli rock breaker In un ipotetico dungeon Potremmo trovarci In difficoltà Adesso Meditate Lo possiamo provare Se volete Dove era Su che percorso era Su che percorso Stava Meditate In grotta Vediamolo Posto che Non ho Non ho modo Di non Hittarlo Quindi Devo andarmi A prendere Delle ball Togliamo L'enigma Vabbè Re si è giusto Come valori Di typing Di crogank Per 4 Lo psico È sempre un'inculata Ho sbagliato Volevo entrare Nel market Un errore terribile Quello compiuto Allora vai così Prendi 29 Hillball Sperando che bastino Vedi anche tutta sta roba qua Così le farmo per bene Ti devo dire Prendi le altre Fai cifra tonda Perché poi ci sarebbero anche le pell Esatto Shockwave è una 80 È una 90 È come se fosse thunderbolt Vai Medi non è un allenatore Non lo so ragazzi Cioè voi avete Avete il superpotere Di dire tutto Il contrario di tutto No Non lo era Evidentemente Se questo fa Psycho boost Abbiamo fatto fatica Ovviamente Dobbiamo evitare Di catturarlo Questo viene da sé Di certo Killarlo Non possiamo Shadowball è un'altra cosa Quel danno di shadowball Mi fa pensare che ha Psycho boost Che ha una 720 Shadowball ci ha fatto uno Dovremmo Tenere Solo psycho boost C'è vero Di psico Eh ci avresti bisogno Di pigliare una Per 4 fire In realtà Roba del genere C'è così Un po' tortuoso Devo dire Se non altro Se ci fa vedere Tutte le mosse Almeno lo sappiamo Ok Meteor mash Stacco fisico Sei un po' più forte Dai Tirami la quarta Così almeno So che non ce l'hai E posso andare Serenamente avanti Fiamo così E via Sembra l'idea migliore Aspettiamo che ci arrivi Normalmente in game Una bella Psycho boost Stab Da Deoxys Ti direi quasi No Mi verrebbe da proporre Questo Bide Cravo può vedere Le mosse No Non credo Di poter Vederle mosse Non credo Di poter Vederle mosse Non posso Vederle Informazioni Di un Pokemon Che non Trust Magari sbaglio Ma non credo Che sia una buona idea Ma comunque sarebbe una 90 Ma comunque una 40 Quindi no Non sarebbe una 90 Sarebbe una 90 Una mosse da 60 Quindi se Una qualsiasi mostra Flame Flame Mi sa che è una 65 Non lo so Idropulsar Sarebbe Sì Grazie Ah scusatemi Considerato la stab Sarebbe 40 Per 1.5 Per 1.5 Allora beh Adesso le so Le mosse di questo Quindi Non guardo troppo Però A parte che poi La dimentica Se lo becco Da Valerio Quindi Ah vabbè C'è un gunshot In più Ok Vai Toxie Il tuo momento Non so Non so Non so cosa tu Posso fare Ma Ai Dragon Rage Ai Brine Tendrei a preferirli In palestra Dragon Rage E Brine Perché potenzialmente È due hit Tipo qua Shockwave Ti arriva in testa Dritto per dritto Secondo me È meglio di Dragon Rage Easy Stesso discorso Vale per Seel Bene Shockwave Più danno di Brine Grazie per avermelo detto Non lo sapevo Vai qua Vediamo chi è Tauros E qui forse tiro Doppio Dragon Rage Invece Oddio forse Shockwave Vinto Dragon Rage Magari Biancule muore Ok Easy Bene Livello 22 Mossa 65 Sta merda Pensando su cosa Mi dà della coverage Togli Dragon Rage Ottima idea Così almeno Perdiamo contro Valerio La domanda è Quanto vogliamo rischiarci Shedinja Eh non possiamo Togliere Dragon Rage Raga 85 di precisione Vabbè ma Flare Blitz È ok A massimo Prendiamo Recoil Abbiamo anche Attacco fisico Non l'andrei a mettere Non mi tolgo L'anti Shedinja Vai proviamo Dai eh Octillery Shockwave Dritto per dritto Questo è T-Bolt Praticamente GG Crit Credo inutile Aveva pochissimi HP Regirock Con la super efficace Grande Speriamo che non sia psico Speriamo che sia Terra Abbiamo solo psico Ah no Ok per due infatti Ho visto male Mi sembrava strano Stavo dicendo Perché Ah sì Brine into Dragon Rage Forse la tankiamo Confusion Ok Brine è a roll Quella roba lì potrebbe essere Brine fa più danno Adesso Però Dragon Rage Dovrebbe killare Easy Allora non so se è a metà Quel coso Guardate che non vi fate ingannare Non è detto che sia doppia Perché non è detto che sia sotto la vita Easy Fidatevi di me È safe No Extreme speed Però No Che danno è Ma che danno è Ma è un tra Pinch Brine sotto Rain Oh Prova Dragon Rage Un coglione Un coglione Oddio Tra tutti i coglioni Dai Oddio Tankala Cazzo Oh sì Oh sì Questo era importante Fare out GF95 ha rinnovato L'abbonamento Per 17 mesi Questa Questa era importante Fare out Grazie GF Questa era importante Fare out Raga Eh ma ha tancato T-Ball Stub Cioè Stub Scusatemi Ma ha tancato T-Ball Super efficace Al like Che video di Sinistra Eccoci qua Sì anch'io Ho la sensazione Che si sia persa Per Trapinch Raga Cazzo di extreme speed Difficilmente Ma avrebbe killato Di Omnius Quel Pokémon Se ammesso Che fosse la sua mossa Migliore Oh sì Oh sì Buco grazie per il Prime Buco 2003 ha rinnovato L'abbonamento Per 12 mesi Magari non ti chiami Così per quello E sei tipo Distrutto Da tutti quelli Che lo fanno Si avessimo avuto Una cura in più Porca puttana Veramente Che scandalo Vabbè Ci siamo andati Molto vicini Eeeh Ma sto Negger L'idea migliore Ah Ok Dovremmo pescare una run Raga Per rientrare in gioco Per la vittoria Centro Eh ma se mi hanno Raga Se mi hanno trombato Il Dragon Rage Non bene E ancora gettoni Non ci sono L'ultima settimana Giottonium Una run Ah L'album ragazzi E' fuori E' fuori discussione Cioè non riesco a far A parte che per fare l'album Devo fare una run Quindi le due cose Si associano Vabbè Vai screen Gioca alla fine All'ultimo Quello che può valere Secondo me Con quella Tancata di Mannaf Abbiamo perso La pill Ragazzi Cioè nel senso 40 try Può succedere Ancora di tutto Però se facciamo Quella Quel Toxicroclip Con un po' Di olio di gomito Poteva essere Una lega Secondo me E E stavamo In pari Con tuono Cioè è sotto Mille punti Ma Lì Vediamo Strano Questo Usciranno i video Su youtube Per le due vittorie Chi lo sa Max potion Ti direi Sing Sfruttando la speed Che abbiamo Ho miscliccato No raga Non devo farle Ste cagate Vabbè Avremmo perso Quale Eh ho letto Swift Sing Ho miscliccato Vabbè Cacata Questa Che ho fatto Lui mi shotava Di sludge Va bene Però se Tavuo Sing Magari Uscivamo Vabbè Trae buttato Questo potenzialmente Peccato Centro Eh sarebbe Poetico Piazza Vabbè Oh sì Oh sì Oh sì Liparozzo Assubbato Al canale Grazie Liparozzo Per il prime Press A Fireblast Unlucky Miss Niente raga Non c'è verso Magari Miss Sacred Fire Miss Sacred Fire Take it Ok Se hai una mossa E la miss Non c'è modo di vincere Ok Siamo già Più trai di tuono Con mille punti In meno di lui E senza run E dobbiamo recuperare Sul masseo Ok Ah no Tuono è a 386 Vero Scusate E che tra tutti Con tutti gli auto Folkiner Che ha fatto Sinistra Ci ma Il Ok Mi Is va popula Press A into Sleep Powder. Che devo fare? Oh! Sand Stream. Aspetta, questa è un'ottimo... Una buona notizia. Fa freeze. Ok. Allora, lui sto turno rimane addormentato garantito. Ok. Into Cura. Lui è più veloce di me. Quindi io preferisco spammare gli Sleep Powder qua. Bene. Dorme garantito. Assurance. Ottimo. Into Cura. Dorme. Into se si sveglia. Dorme. Però questa challenge è skill No se non ricordo male c'è della skill In questa challenge Buono sapersi Vai Devi anche rimanere addormentato Quanto mi riguardava Mentai che l'avversario Barbo c'è il coglione Bollette il gol Punto uno Se non chi li menta Sei un coglione Lo diciamo così Anpassa Dubito che possa reggere Ok Ora È in dubbio il trust su questo Pokémon Anche se ha poca special defense Questo qua ha la staff di Thunder Volta Hyper Voice È veloce Si trasta immediatamente Sperando di pescare una run Con Scrap it anche gli spettro Non che gli serva particolarmente Ma fa sempre piacere No Hyper Voice non è anti Shedinja Regà non sapete come funziona Shedinja Cioè Non si può avere una conversazione Se mi dite che Hyper Voice Scrap it è una con Shedinja Cioè Oh sì Magari cresce bene in special defense Zobbero ha subbato al canale Bene non può crescere L'unica cosa che può fare È non crescere troppo male Zobbero grazie per il Prime Ma senti a me Qui conviene più T-Bolt Che attacco Attacco order è una 108 Mega Horn non è a rischio A parte che conviene Hyper Voice Che cazzo dico Sicuramente conviene Hyper Voice Ah Ok Conviene Hyper Voice di nuovo Abbiamo più special defense Bene sei stupido E vincere un Aspittai Testa di minchia Bravo No l'hai vinta ma bravo Senza Bene comunque Mirror Shot speciale Devo a Mega Horn Vai Vai Bene Poi prendi l'item da tuono Item da tuono Lo prendiamo Sì adesso siamo safe E questo è un Pokémon simpatico eh Tuono con un Gorbis simile Ci ha fatto la sua run Vediamo se saremo tuono Oppure se saremo Meliador Quest'oggi Vediamo di chi indosseremo I panni Sì è vero Il Gorbis di tuono è molto simile a sto Pokémon Ma Special defense invertita Con la difesa fisica È vero Che in realtà Tendenzialmente giove Entrambi i Pokémon Waflo Grazie per il ride Benvenuti ragazzi Siamo per perdere Guarda qua Non sarebbe stato piacevole Giù Left Hyper voice Quindi ora è più veloce Immagino fa la Destiny Bond Sarebbe un buon modo Un buon modo per morire In effetti Trick Room Destiny Bond Con questo Pokémon Non mi dispiacerebbe Farebbe sorridere Sì no Impossibile avere un Pokémon Con una difesa speciale Era capricciante Certo Chiaro E anche io mi sono cagato Ados Magma Storm Con quella special defense Devo ammettere Fortunatamente anche Macioc Non sembrava un campione Delle specialità Per me è impossibile Tirare un Thunderbolt Con serenità e amore Per il prossimo Mirror Shot Oh Il genio Oh sì Tony grazie per il Prime Benvenuto Oh sì Undicesimo mese Vinchià ragazzi Il leveling Questo cotto Quasi un Campione mondiale Del leveling Oh sì Razza che è il Grazie per il Prime Oh sì Razza che l'ha rinnovato L'abbonamento Sì no raga Prima Torre Cioè ci faccio l'amore Qui con la Torre Altro che Ci faccio l'amore Master Ball Spam Root Fossil Nacura Concetto arcaico Dai Prima Item da Torre Raga posso dire Che mi avete rotto il cazzo Non vedo l'ora Che finisca questa pill Solo per non sentirmi Mai più dire O per sentirmi dire Il meno possibile L'Item di Tuono Letteralmente Basta Se trollate Non è più divertente Se non trollate Dovete guardare le live Altrimenti Ci sono i podcast Ragazzi Carboss Madaglia Le cure Solo per bestia Esatto Le cure Se le meritava bestia Non evidentemente Fallito Maledetto Pascio Berri Mi dai una Succhiamo il cazzo Berri Sono contento Una bella Asciuca Berri Per a godere Direbbe Un antico proverbio cinese E invece L'incenso Della wave La proteina Con un attacco fisico Che sicuramente Riuscirà a sfruttare Razerfang E questo Abbiamo cammino Se passi Volpi Ne faccio La salva Cioè proviamo No ok Ippi Non sono ancora Non ho ancora affrontato Un allenatore Sono il migliore Dai Perché non ti compri Le cure Hai ragione Oh sì Oh sì Oh sì Luca Sottolinea Grazie Luca Aiello Per il sesto mese Già Su 7000 lire tour Che di Kaizo Ne avrò seguiti Il 90% live Ovviamente Ho mancato la win Recuperato il video Congratulazioni Thanks Grazie mille Grazie Yamazuke Per i 40 Yamazuke 12 Cirdix 40 Ora che hai preso Icardos Puoi tirarteli E aumentare un po' La velocità Almeno riesci a scappare Dai pokemon Selvatici Che incontrerai Nel percorso A ritroso Mentre vai a recuperare L'item di tuono Oh sì Oh sì Giusto così Oh sì Grazie mille Per Maresca Grazie mille Voglio dire Non siamo Con quella Le battute migliori Si sbloccano Con la sub Ovviamente Volevo dirlo Ok L'item del masseo L'hai preso? No No prendo Gli item Dei cheater Giù Comunque Comunque alla fine Se ci pensi Cioè sono comunque Secondo Perché il masseo Lo squalificheranno Per cheating Scusate GG Giocateli Dei mirror shot Altrimenti qua Ah cazzo Scrappi Su Rotom Potevo fare Hyper voice Bravi Ricordatemelo Giusto È vero In futuro potrebbe essermi utile Ecco Rotom è esattamente Forse L'unico Pokemon Su cui conviene L'unico spettro Su cui ha senso No È una gag Regà Stavo scherzando È una gag Sul masseo Era una battuta 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 Uno scherzo Uno scherzo Dell'ironia vi feci Quel giorno È uno scherzo Una battuta Ho fatto Una battuta Simpatica Ironica Volevo essere simpatico Era una battuta Una battuta Una battuta Una battuta Era una battuta 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 Sempre quello specifichi Evidentemente ragazzi Sì Era una battuta Scherzavo Masseo non ha citato È un bravissimo ragazzo E sicuramente Arriverà secondo Era una battuta Una scherza Una burla persino Mi verrebbe da dire Quando Frenesi ha avviato il canale YouTube Frenesi ha il canale YouTube Da Quanto guadagni Frenesi per mille visualizzazioni Frenesi cerca un euro Però Quello è il patrimonio netto di Frenesi 57.k Cerca il valore netto di Frenesi Quante visualizzazioni di video ha Frenesi? Frenesi ha visualizzazioni video 52 milioni Cazzo più di meno Quanto guadagni Frenesi al mese? Frenesi fa circa 104 euro al mese Ia Masuke 12 Cirdix 100 Oggi voglio essere generoso con i bit Ricordo a tutti gli spettatori Che con la TR2 di abbonamento Potete sbloccare Creepy Che fa battute Che fanno davvero ridere Mentre per ogni TR3 Spawnate o Maresca Con la per 4 Grazie a Leo Itadori Per i 25 bit Grazie a Masuke per i 25 Era una battuta Era una battuta Eeeh Non me ne voglia Frenesi Lo salutiamo Però non credo che i messaggi a spam Siano una buona cosa In generale Eeeh Bro non lo so Perché questa cosa? Vuoi Vuoi chiedere di essere sbannato Devi convincere i mod Ehm Non si fa così Senti Petagna Berry Guarda che Sarà un po' Demodè Però secondo me Petagna Berry Perché io me la tengo Per 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 Valerio Tibolt Ok Nice Dio Ma quella super efficace Uno dei metter Dimmi che non ha Ok Lo tankerai Bravo Minchia che culo Che culo Ah che cazzo Mi frega di mirror shot Esplodi Falleto Fu allora Che mi accorsi Di poter Cleanare la torre Lo salutiamo Frenesy Non guadagno 104 euro al mese Non penso Acquaggetto Perfetto Via Non penso proprio Ci farà sapere Ovviamente Vai 104 al giorno Più probabile Nah Sono pochi Sono pochi Oddio Non sono aggiornatissimo Sui numeri di Frenesy Siamo un po' di più Eh Tibolt Vai Oh È sempre una soddisfazione Venire qua da questo tizio E demolirlo Ok Si trasta il Valerio Ah non ho detto che siano Possono È un buon guadagno Quello Però per come sono rimasto Con i numeri di Frenesy Non ho detto niente Ok Cambiamo discorso Che non si fanno In tasca Le persone Specie le persone Che non conosci Tirate in ballo Per un messaggio di spam A caso Non si fa Ecco Sai cos'altro non si fa Ladio Sporco dio Non si resiste Ecco cosa non si fa Che fallito questo Codo Serenamente Anche io prendo La 104 ogni giorno A z Grazie per I bit Possiamo evitare Per favore Cioè Va bene l'ironia Però adesso Non facciamo Cela sfuggire di mano Please Grazie Dofla Per i 95 Oh vi ricordo Che ci sono Le hype chat In caso di vada Nuova funzione di Twitch Se volete provarla Grazie mille Come funziona Questa nuova funzione di Twitch Boh Mi date i soldi Con i soldi veri Anziché con i bit Valutate voi Se mi fa Bene Regà io la petagna berry Me la gioco Perché secondo me Questo che aumenta L'attacco speciale Potrebbe essere 3000 IQ Vai Vabbè Gestibile Roost Non credo Oh Avrò una super efficace Capita a volte Piggio Piggio Giù Calma Grazie Fangruz Per i 6 euro Di hype chat Vedi Vedi L'hype chat Metterò degli alert Ok Scrappy Come 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 Ti bolt Ti bolt Ok par God Mega kick Sì, petagna berry Ora parrato, pozione Volevo far attivare la petagna Dio porco, sono Veramente il più forte giocatore di Star Challenge Non c'è nessuno più forte di me Dio merda, nessuno Attivazione petagna Due Pokémon 123 di attacco speciale Tuono, arrivo Arrivo, tuono Arrivo, tuono, mi devi temere Masseo, arrivo Tuono, arrivo Prima vado in bagno Grazie a tutti A non usare le cure Per attivare le bacche Hai bisogno di questo Certo La forza Rotom, rotomitabile con Scrappy Che fa soundproof Per bloccare i pervoi C'è interessante MT, Calm Mind Facile, guarda Sì, Calm Mind Oh sì Oh sì Amico, i campioni sono fatti così Porco, due Si rischia il crit Per attivare la bacca La bacca si attiva sicura Perché sa che l'avversario sta tirando una 75 Con la par Missa e vince Bro O come direbbe qualcuno Vets Tuono dice Petto, petto E io dirò Clavicola, clavicola Non abbiamo un anti-shedinja Comunque ragazzi Non abbiamo un anti-shedinja Non abbiamo un anti-shedinja Questo potrebbe essere un'osservazione Chissà dove ci porterà Vai Che metti ti ha dato? Trick room Lui dice Torito Maiali Clavicola, clavicola Maiali Lui dice Spingere Io dico Trattenere Non lo so Mi ha già annoiato A spingere Tirare Bravi Certo ragazzi Dovete capire che ho fatto filosofia Queste cose Tipo della vita comune Non le so Tirare, tirare, tirare Clavicola, clavicola, clavicola Maiali Distrutto Tuono annichilito Da questo dissing Impossibile per lui riprendersi Super potion Sigona Worse it può essere Call su shadow Sì Diciamo che Tra queste mose C'è attack order Che onestamente Potrebbe farsi anche Vent'anni di galera Qui un bel lanciafiamme Secondo me Andrebbe Andrebbe messo Più che altro Ma lo dico così Eh Cioè Lo dico Lo dico così Cioè nel senso Lo dico Lo dico a Harry A Rimp E poi gli faccio presente Che so Comunque Poli è qui Legato Oggi non è che Oggi Poli ha detto Oh mi prendo un venerdì Di vacanza Poli purtroppo è qui C'è la bocca scocciata No non riesce a parlare Ma Poli è qui Quindi io Lo dico Rimp Siccome Facciamo finta Che vi paghi Siccome è il vostro Datore di lavoro Io vi dico Ma non lo so Datemi il flamethrower Ma così Ma più che altro Per lui Perché è qua No così Lo liberiamo Più che altro Per affetto Verso Poli Che comunque Ma ha ospitato In questo progetto Assolutamente Ma è un ragazzo Di cui ho profonda stima Però purtroppo È qui legato Bolletta E ti è te lo Poli Ma secondo voi Poli Vale 30 milioni In più di Mediador E ti è te lo Poli Ne piglio un altro Tutti quelli che al fantapill Non hanno preso Poli Perché Non ne può vincere un'altra E regà Scusatemi È bolletta terzo lui Vero Scusatemi Mi sono sbagliato Ma ti è te Ce ne sono Tanti L'ho chiamato Bolletto Ho mi scliccato Oh no More like Bollito Bollette Terzo Comunque Io vi ricordo Che quando siamo arrivati A Fior donapoli Abbiamo preso Absol Gli abbiamo disegnato Le tette Con il Il Con la scatola Chic E la foto L'abbiamo chiamata Easy Win Vorrei dire Che è iniziata Una tradizione A lui le tette E a Charizard Il cazzo Non vorrei dire Che è iniziata Una tradizione Però Lo dico Vai Umiliare i Pokemon È win condition Annichilirli Completamente Disumanizzare I Pokemon Il prossimo passo È dargli Al posto Dei nomi Numeri E non lo so Un'altra cosa Che Hyper Potion Ok Libero Polio Libero Polio Adesso Rimpe Dai Libero Polio Mi sento in colpa Non è giusto Cranidos Guarda C'ho la testa dura Distrutto A goder Impari Poche mossa I livelli basse Tu Non mi piace Sta cosa Dovresti impegnarti Di più Bollette Oh da quant'è Che non giocavamo Un bollette Raga Grazie Andrea Per i 50 Ciao Creepy Sono tornato Mod a lavoro Come è andato Absol Ha vinto Siamo Bicampioni Dalla Kaizo Ironmon Ragazzi Ufficialmente Bicampioni Dalla Kaizo Ironmon Charcoal Eh regà Eh regà Lo spoiler Ci sta Però Regà Abbiate pazienza Cioè siete nella stream In cui ho vinto La Kaizo Oh sì Non dico che lo spoiler Dovreste aspettarvelo Però c'è Non è che posso vincerlo E poi stare zitto Tutta la stream Senti alt'accordo Questo è per 4 Grazie Xenotron Per il Prime 6 mesi E 2 Kaizo 20 Più di 6 mesi More like 4 giorni 2 Kaizo 20 No Non abbiamo fatto 104% Andrea Recuperatevelo Il tentativo Di 104% Perché abbiamo Cioè Recuperatevi Il tentativo Dalla 104% Raga Perché abbiamo ricevuto Una scammata Inesistente La scammata Che abbiamo beccato In quel 104% Ciao Ago Eh Anzi Sì Mi faccio un po' schifo Però Guarda che ho fatto Una play su Valerio Che vale la run Dovresti recuperartela La play su Valerio Di non rischiare la cura Per attivare la bacca E poi curarmi Con lui sotto pare Mega kick Sperando che mi sasse E lo missa Stata una play Che dovresti recuperarti Poi faccio comunque schifo Questo è un dato di fatto Oggettivo Lo sappiamo Adesso si va a vincere La tazza Adesso Andrew non lo far Bravo Ma Andrew Andrew minaccioso Se posso dire Pure tu non scherzi Ok Come si è messo con l'album Una merda Disgustoso Ho solo 6 carte Difficile Oh ragazzi Se per qualche miracolo Ho completo l'album Vinco la PIL sicuro Ah si Poi ho fatto anche Un out con Widow Contro Quello è scandaloso Quello non era skill Quello era imbarazzante Basta Se faccio Se faccio l'album Regà Vinco la Cioè Vinco la PIL Non c'è dubbio Il problema è che Sono troppo indietro Non ho avuto fortuna Mi manca Magmortar Mi manca la torre Mi manca Oh oh Oggettivamente Un po' troppo Eh hai ragione Agu Una volta ero del popolo Adesso invece mi sono Mi sono venduto Al turbo capitalismo Ma questo lo devo Grazie a voi E alle vostre sub Ragazzi Grazie mille Le run Non si comprano da sola Devo Davvero Questa pille È anche vostra Raga Wildlands Tre carti urana Si potrebbero fare Teoricamente Vabbè sì certo Ma infatti Noi le proveremo Tutte chiaramente Come se avessimo Scelta peraltro Su questo qua Fallo attack order Ok Resta comunque Una 360 di potenza Quando ditta Sti cose Lepa berry Carina 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 Gli abocca berry Oh Gli abocca berry Scusami C'è Ninja goal No Tieni Stai diventando Pisano Adesso con le offese Eviterei Va bene la competizione La competizione Arrivare a questi Galli Non lo so Temo proprio Che la nostra amicizia Sia ufficialmente Rovinata Purtroppo Per questa uscita Infelice Dovrò Distruderò Radiarti Dall'albo Degli amicissimi Spiace Eter Vai Tra me Matteo Costini Ragazzi Ufficialmente Finita Domani Sarò in prima copertina Di Vogue Per distruggerlo Impossibile Da V36 Assubbato Al canale Vai Caro Poli Caro Poli Tu sei esattamente come Dario Moccia Della retorica insopportabile Quelli della Matrix Possono essere pagati di più Ma è inutile tirarli fuori ora Un Meliodor produce un'emozione tale Quale di un artista Altrimenti io ti dico che Picasso era uno stronzo Raffaello una merda E la Matrix dietro alla PIL è un eroe Signor Poli Lei mi fa vergognare di aver disopportato Durante la PIL 3 Mentirei Se ti dicessi che non mi ha fatto sorridere Questa cosa che è appena scritto Ho particolarmente apprezzato Se posso Ho particolarmente apprezzato Se posso Il passaggio qui A un certo punto è successo il delirio E si è iniziato a parlare di Di Picasso A caso Devo dire che No L'ho molto apprezzato Cioè nel senso Di base è un messaggio incomprensibile In chat Tecnicamente verresti bannato Però Hai un paio di attenuanti Tipo Che non era così Non era così Fuori target Perché comunque stiamo parlando di PIL E poi era Oggettivamente divertente Quindi Ti sei salvato Comunque dal ban Perché alla fine sei riuscito a fare Un messaggio Tutto sommato Divertente Non è male Va bene raga Ovviamente io ho fatto apposta Sorvolare su Mistball Non è un antice ninja Quindi ovviamente Questa qua Siamo sfigati Shookaberry Godo No Mistball Non è antice ninja Purtroppo È semplicemente Molto forte Scuro la fire Imparate il glow Ormai il paradigma è quello Il glitch è quello La recitazione di sgarbi Ah Eh capito È qua però C'è della mancanza Di cultura popolare mia Eh scusatemi allora Erroraccio Erroraccio Sono ufficialmente Incandidabile Alle prossime elezioni Chiedo scusa Questo qua Aveva tankato Prima vero No Sono impazzito Power jam Mi imparerà Ma magari A godrei Se imparassi Power jam La prima mossa Che vola qui È mirror shot Una merda Colossale Che però In realtà Mi dà coverage Sulla roccia Quindi Però 65 di precisione Credo Sui rocce terra Mi dà coverage Palla mistica Schioppa Cosa si prova A trovarsi ultimo Dopo due settimane Se ne do Dove il primo posto Ma guarda Non so cosa si prova Però ti so dire Che se tuono Mi scippa la vittoria Mi rovina un bel video E questa è evidente Se tuono Mi scippa Mi scippa Mi scippa La win Ci potrei comunque Fare un video Su questa pil tre Ma sarebbe un finale Amaro La grande cavalcata Che hai noi Si interrompe Prematuramente Non era facile Beccare questa roba qua Però se ci siamo riusciti Amaro Ho avuto un attimo Di delay MT comunque E abbiamo clearato Ragazzi Bene Benissimo Roar Distraiamoci Ho rischiato La carriera Ho rischiato La carriera Perché poi L'avrei detto Avrei riso Ho rischiato La carriera Sarebbe Fantastico Vincere la pille E farsi bannare Da twitch Nella stessa Stream Amaro Amaro Montemortar Allora Beh Vostro onore Erano solo Cene Galanti Andiamo Seaking Seaking E lui Motor drive Godon Puccino Hyper voice Bene Le bet Crab Su sto canale Ci sono pochissime A bet Ragazzi Abituate Lascio tutto in mano ai mod Se hanno voglia di farla Possono fare Altrimenti no La motivazione È che ho letteralmente Zero voglia Di fermarvi Cioè di fermare La live Per vedere le bet Una motivazione Estremamente banale Ragazzi Non c'è un'altra Un'altra ragione Impossibile Mi stare Mirror Shot Dai E io come divento VIP Allora O giocandoti Le bet Le poche bet Che ci sono in maniera corretta Oppure seguendomi E sputando sangue Su questo canale Dimostrando Regà Voi dovete capire Che sto straparlando So pure stanco Cioè Nel senso Vai Non c'è nessun mod Eh Pace Allora non ci saranno Bet A parte che ci sono i mod C'era Davide Quindi Infernape Mascherane Download Download No Ok Ammazza questo Vai E poi nel caso Abbiamo Tanto che vedono La chi su Cascun Lo devastano Dragon Rage Cascun Vabbè Una certa Cascun Si volverà E ci diamo I 100 punti Della Evo Mi sembra Chiaro Io Uguale Stupido Quando stacco Penso alle 3 di notte Ragazzi Perché dobbiamo Fironz93 Ha subito al canale Non ci sta scritto Ma abbiamo un po' contrastato Evo Evocate Ferronz Grazie per il prime Evoluzione Della HM Slave Gate Ma allora posso Switchare sempre HM Slave Farmare punti Ah live di poli In cui Perfetto Perso Ti prego Non mi perdano Ok Primo raffaello Semi difficile Prossima live di poli C'è un problema Nella pelle Ed è quel Coglione di crappo Spero che non partecipi Neanche alla 7 Andre 94 Juve Ha subato al canale Hai poli legato Perché hai ragione Fra Mutolmik Ha detto Ha detto Poli ha detto Che Che vale Evolver Leisham Slave Raga 70 punti Sì Ne ho fatti 70 Che brava persona Che è poli Cos'era Ah Ah Abbiamo Tri Attac Ciao Legge Sì ho vinto Con Absol Ho fucking Vinto Con Absol B Campione Della Kaizo Ironmon Oh Tri Attac È interessante In realtà Abbiamo Hyper Voice Spero La terrei Da parte Non è cover Sushi Ninja Purtroppo Allora Troppo a questo Troppo anche l'uovo Per favore Hai capito Magari la mettiamo Sui pp Col su rotom Ah Cazzo Col su rotom Una bella idea Va bene Col su rotom Bravi Abbiamo Mistball In caso Raga Ora su rotom Comunque Tibalt fa bene Non andrei a giocare Per quella variabile Time Time Vai Digim Ah 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 Tibalt Conviene Ah Di nuovo Rivali con 36 Mossa Refresh Vai Pure bannata Si go Si toghi Chi spi veloce Con flamethrower Interessante Sicuramente Piati sti 50 punti Valam E prendi anche L'Aceham Slave Prossimo Ossia al 43 Mamma mia Inizia a essere Inizia a esserci Odor di Cedinja Raga Eh puzza di merda Cedinja Siamo d'accordo Raga Siamo assolutamente D'accordo Però Non è una play Non è play Scrappy Hyper voice Su Cedinja Ma so giocare I pokemon Di buono Dai Frank 95 Itacir Dix 100 Creepy Ouna Domam Da ma se esci Con un pokemon Con teletrasporto E trusti Un pokemon Passando da blu E rosso Nel varco Ed esci E catturi A monte Argento Il pokemon Al 60 E usi Teletrasporto NN E un gate Sono ufficialmente Nel panico Però è molto interessante Questa cosa che hai scritto Eh Sì Magari potrebbe esserlo Ma Credo che nessuno Sia così pazzo Da farlo Ha capito Ma si Tira Sì c'è una bacca Che mi aiuta Su Cedinja Però se la perdiamo Prima raga Ovviamente non abbiamo Più la goal Mi aiuta Non è detto Che sia la play Però potrebbe essere Potrebbe essere utile Allora Cedinja grandine Ma magari Dio buono Magari 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 per una volta Mandasse bene Su Cedinja Magari Mandasse bene Una volta Su Cedinja Ogni volta Che l'ho incontrato Era il god Cedinja Il god ninja Dove essere Dove essere una Recoil di merda Quel fallito Una volta Sandstone Qualsiasi cosa Tanto è stupida La CPU Con Cedinja Perché non è programmata Per giocarlo Non le legge Le mosse Che lo uccidono Che si ammazzi Una volta Da solo Iron Vabbè Iron Iron Neanche lo tiro Difese Ne ho Soft Sand E la scorsa A volte Aveva Voltaigle Aveva Voltaigle E noi avevamo La call su di lui E poi L'ha pure disimparata Non utilissimo Apicot L'apicot Non è la Eh no Serve l'altra Mi sembra No Esatto Rime Cesto Sodapop Grazie Waterstone Rowap Grazie Che me l'avete ricordato Oh Zinco è utile Zinco è ok Vai Vabbè Un po' di cuore Le abbiamo Grazie Crossfield X25 Qualcuno può Fermi un riassunto In che senso Vinta due volte Qual è il voto Che devo recuperare Uno è questo L'altro È quello Di lunedì sera Uno è questo L'altro è quello Di lunedì sera Credo Tu ci vediamo Cos'è la Partner Plus È quella Con la monetizzazione 70-30 Se mi impegnassi E streamassi solo Su Twitch Per tutta la mia vita Ci arriverei ad avere La Partner Plus Se è quello che Intendi Se è quello che Intendiamo Ma Tanto calerò di sub Perché streamerò un po' meno Dopo sta pillo Lo sapete quindi Avrei il potenziale Per rientrarci Ma non ci punto Preferisco fare Soldi con YouTube Maresca Maresca Anche tu Ancora tu Cioè non ancora tu Sei sempre tu Non mi veniva Perdonare Vai Ah sì Il Vode di Martedì Scusatemi Allora ho vinto Due Kaizo In tre giorni Scusatemi Non è la prima volta che Le cassa Ah Vai Vale Mi serve una Fire Ragazzi Non so se Riesco a trasmettere Adeguatamente Il messaggio A Poli Non so se ha ricevuto Spero per lui di sì Cambio Poco In grotta Ci penso Raga Sto Poco Se prende un anticiringe È un Godman Sai dove spawnare Tu Veramente esagerato Se posso permettermi Se posso permettermi Veramente esagerato Davvero un esagerato Eccessivo Guarda Eccessivo Secondo me Mio parere Eccessivo Sì no Era un crit Certo Ecco no Non è un Godman Scherzavo Mi sono dimenticato Special Defense Rail Candy Ah tienilo Tienila Carte Porcate varie Teniamoci aperta La possibilità Citrus Va bene Oh Cura esattamente Come una Randi Absor È impossibile Darcele belle Vai Questo mancherebbe Una bella setup Tipo del Clow Pazzesco Calm Mind Hai trovato La Hyper Avete ragione Scusate Sono stupido Non me l'ho dimenticato Vabbè Teniamocela Vai Perché teniamo lì Vai Boom Slow start Del campione Boom Qua serve Calm Mind Come avrò È Abbastanza Sì faremo Sicuramente Live extra Nel weekend Non è che abbiamo Molta voglia Però Qua occorre Spingere 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 Non mi viene bene L'imitazione Di tuono Raga Sicuramente Domani Attaccheremo Alle 15 Forse stream Anche sabato sera Se fai l'album Sei primo Sì ho capito Devo fare tre carte Ci proviamo Però Ci stiamo All'ordine mosse No va bene così Chill Ok T-Bolt G-G T-Bolt G-G Sai che fare Entai Ti aspetto Ti aspetto Fra dem Cerca i sul dex Eh certo I leggendari Sul dex Ok I leggendari Che tra l'altro Si trovano selvatici Eh per forza Ho vogliono Del pipo Scusami Eh cazzo Ma sei in un Sei Eh ma la tua estetica Non mi permette il pipo Come si fa Non mi ha dato neanche i baffi Porco due Finita la run Eh ma questo non può vincere E non si riesce a fargli il pipo Vabbè C'è gli appare dietro E poi vabbè C'è tipo una penna qui Perché si Easy Perfetto Gli 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 arriva dietro Tipo Seconda coda Il pipo È un po' Un po' Un po' Molle E pokemon Le mosse ci sono No vero No perché sennò chiamarlo thunder È una bella idea Abbiamo qualche Oh sì Oh sì Oh sì Scarlett Sottolineatura 2311 Scusatemi Domandona Un altro tormentone Del signorino Corrigetemi se sbaglio Ma un altro tormentone Di tuono Non è forse Tecnico In ogni caso Complimenti per le due vittorie In una settimana Cuore rosso Cuore rosso Tecnico lui Grazie Scarlett Per il sedicesimo mese Grazie per Per i complimenti Adesso si gioca Adesso si gioca A provare a vincere sta pill Dai Allora Sottofatti Sottofatti Vai qua Ora ovviamente Switch in grotta Di Eglat Teavolt Alem Rosi Mi cosa Servi secondo Per i punti del Versus Un pochino Sarebbe bello Se il Photo finish Fossero i punti Del Versus Cioè Bello Non so Quanto bello Però sarebbe ottimo E sarebbe interessante In effetti Non sarebbe niente male Sarebbe un bel finale Non un bel finale Per me Va detto Però Vai Ok Sui kun Sai cosa fare Ti aspetto Impossibile Impossibile Non aspettare I cani Ragazzi Tutti Li abbiamo trovati Attorno a Fior d'Oropoli Hanno sbagliato Città Sti Stupide Porco 2 Poi ci credo Che siete Dei felini Vi chiamano cani Ma ve lo meritate Siete Stupidi 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 Vedete Spawnato Dal Pokédex Adesso lo faccio Così almeno va Corjet Scommettiamo Che nessuno Di loro Può spawnare Scommettiamo Anzi Scommettiamo Che nessuno Di loro Avrà segnato Regalo 50 Sap se possono Spawnare Oh Area unknown Che strano Area unknown Pazzesco Oddio Area unknown Bene I leggendari Non possono Spawnare Come selvatici Dalla Kaizo 0.5 Dalla Alpha Dalla Kaizo Ai noi Non possiamo Trovarli Dentro la torre Come selvatici E il Pokédex Difficilmente Questa è la Mana Che ha ucciso Enigma Difficilmente Il Pokédex Può segnare I Pokémon Degli allenatori Magari L'hanno Pacciato Boh Mossa Eh Se è un fallito Perché non hai L'anti-shedinja Prevemo In là Beh Vuol dire Che spawnissimo Agli unknown Non credo Questo Pokémon Non ce l'ha No Lui Non ha Un'anti-shedinja Ha Soltanto L'agliabocaberry Ma Al primo Take Lei se ne va E poi Come Lo Sconfiggerai Lui è Troppo Forte Un'esce-shedinja È un insetto È un insetto Tipo Spettro Ermandiego 11 Cirdix 25 Sera Crappuo Sono arrivato Adesso Recupererò Assolutamente Il Vod Di Matrix Cuori Incredibile Però Quanto Sculi Sta Settimana Sono una Merda Questa settimana Sono da galera Anni di carcere Per me Vaffanculo Palle 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 Quanto hai retto Hai missato Focus Blast E forse godo Bene Bene GG Special Defense Del signorino Sì sì Molto buono Con Scrapy Non hit Shedinja No Shedinja Sitta Solo con le mosi Super efficaci E il fatto Ok per voi Su Shedinja Hit lo spettro Non implica Ovviamente Che sia super efficace Questo Porta Ovviamente Hyper voice A fare un danno neutro Su Shedinja Che in virtù Dell'abilità Sesso difesa Non può Ucciderlo Sarebbe veramente Fantastico Quasi sessuale Se Shedinja Venisse giù In questo modo Ma purtroppo Non può venire giù Ed è per questo Che sarà il secondo Pokemon di Chiara Con una super efficace Terribile Che distruggerà Boleto Sottolineatura Subato al canale Herman Grazie per i 25 bit No scusa Mi raffino Grazie per il prime Herman Grazie per i 25 bit Cioè nel senso Herman Grazie per un'altra persona 17.100 Cosa sono? Per caso Gli anni di carcere Dopo sta settimana? Sì Faccina che ride A crepapelle Chiamami Donald Trump Lo sapete che ho fatto Il video su YouTube Della Eh no Figo Alessandro Non è un ragionamento Che ha senso Io ti faccio Un ragionamento Inverso invece Eh Se io becco Shedinja Shedinja Ora posso Giocarmi La jacobaberry Puoi prendere Un anti Shedinja Secondo me È un ragionamento Che fila di più Dicevo oggi Ho fatto uscire Il video Di Il video Di pokémon smeraldo No? Della storia Del mio pokémon smeraldo La storia Della mia cartuccia Tra le altre cose Ho raccontato Perché Eh Ho raccontato Anche come Ho ricostritto La storia E di me E c'è andata Anche una vacanza Che abbiamo fatto Con la mia famiglia Sulla costa concordia No? La nave La conoscete Insomma La nave La nave che è affondata Dico giusto Questa cosa qua E poi Non spoilerò Il resto del video No 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 Spoilerò il video Non spoilerò il video Ho detto solo Questa roba qua Che è un'aggiunta È una chicchetta Del video Avevo già detto Sono stato Sulla costa concordia Ha una rilevanza Per la ricostruzione Della storia Di smeraldo Vabbè A proposito Questo lo facciamo Vedere a tutti Ho fatto utilizzata Così che siete in 2000 E vi potete godere Dio merda Il badge Della costa concordia Su cui sono stato E tra tutti i commenti Ho ricevuto tutti i commenti positivi Tranne Due Uno Vabbè Diceva che il video era pesante Questa persona voleva vedere La storia di smeraldo E invece si è ritrovato Storytelling Con termini inutili E storie noiose Quindi anche meno pesantezza Questo è stato il suo commento Al che gli ho detto Che può andare a cercarsi Un altro canale YouTube Ma l'altro commento Ha detto Che non gli è piaciuta La parte in cui ho parlato Di schettino Come se avessi detto Qualcosa di assurdo Su schettino Ho detto che la nave Era affondata Perché aveva sbagliato Manovra Sostanzialmente E E con mio grande stupore Ho scoperto Che ci sono delle teorie Del complotto Addirittura su schettino È fantastico Cioè nel senso Alla fine niente Ci sono finito È fantastico Alla fine A quanto pare Non mi sono informato bene Cioè nel senso Non è stata alla fine Colpa di schettino Che ha abbandonato la nave Ehm Non sapevo Che ci fosse anche Questa Questa corrente di Non sapevo Che potesse dare fastidio Il fatto che in un video Dicessi Sciagurata Letteralmente sciagurata Manovra di uno sciagurato Capitano Assurdo Sono stato ripreso Per questa cosa Non lo sapevo Ma fa piacere Scoprire cose nuove Ragazzi Non è che dico nulla È fantastico Perché comunque L'utente Mi invitava A informarmi meglio Per capire davvero Cos'è successo Ehm Che è fantastico No? Perché è esattamente così Che partono Tutte le persone Che non sono A favore dei vaccini È pazzesco Ehm Ma poi Chi cazzo era Vostro padre C'ha Vabbè Detto questo Ehm No no Iacobaberry Perché temo Molto di più Shedinja Di qualsiasi Pokémon Oh sì Oh sì Oh sì Grazie Sant'Arenna Per il terzo meso La sub Della buonanotte La sub Della buonanotte Grazie per il terzo meso Ale Grazie Vorax per i cento Voraxi Cirdix Cento Una singola frase Per questa seconda vittoria Sono antipatico Perché vinco Non è un problema mio Grazie per Ivit Non è un problema mio Ma potrebbe essere Un problema Vincerla tre volte Così di fila Quello potrebbe essere Potrebbe diventare Un problema No rega La terra Non è una sfera La terra La terra C'ha La terra La terra È a forma Del cazzo Di tuono Toxicor Ai noi La terra È a forma Di godmond Di tuono Dai Vai Vai Let's go Intuce ninja Il primo possibile Grazie Hyper voice Groudon Groudon Potrebbe essere Meno special defense A giudicare da come è venuto giù Però non azzarderei troppo Abbiamo un ottimo attacco speciale Noi Possibile Hittare thunderbolt Qua comunque Thunderbolt Inhittabile Purtroppo Ai noi Direi Time Tibolt Mack Mistball Venom GG Guarda Chiara Mi dovrei dare un anti-shedinja Te lo giuro Mirror shot Slash mistball La possiamo far volare Per una qualsiasi anti-shedinja Te lo posso giurare Clefavor Lore Hyper voice Easy Hyper voice Dai 5 hyper voice Danno bene Sarebbe divertente Uomo Hai ragione Sarebbe bello Tipo Doppio shedinja Nella stessa lotta Brucio la bacca Effettivamente lo troverai ironico Ecco cosa invece non troverai ironico Dover affrontare Andrew Godom Tibolt Ok potenzialmente non ci sono più super efficaci qui È incredibile quello che sta succedendo quest'oggi Mistball Crit questo Mega horn Addio row up Row up Kill di row up Ragazzi è la sogna Passaggio di consegne Distrutto Bene Non abbiamo più un anti-shedinja Ragazzi GG Ho letto la S Non piacevole Vai Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore Ti prego Amber Eh vabbè Perché ha rotto uno litri di Hyper Voice Intanto perché ha uno spettro Eh ma tu mi dirai Allora abbiamo scrappi Abbiamo scoperto che c'ha Soundproof ragazzi Ha soundproof Rotom Sarebbe da mettere su triattac ma Stiamo aspettando perché comunque per ora abbiamo Mistball Eh triattac è una buona mossa Che possiamo usare per il PP In caso Abbiamo Mistball Fa piacere vedere Rotom reggere così tanto Mi fa Conviene Non conviene Angelo prematuro vero no Mumilk No regà ce la rischiamo No anche perché non devo Vincerla Cioè devo cercare di fare punti Angelo Ti dà pochissimi punti Clear dei D'Angelo Te ne dà tanti Borelli ha rinnovato l'abbonamento Quindi onestamente Farei così Complimenti per queste grandissime rana Grazie Matteo per il Prime Guarda ti dedico questa cura Bam Bam Oh god Ok The White Perché si chiamano The White Glass Vabbè Vai Sì può anche esserci uno Cilindra Che si selfitta Cioè Sono di robe Team Rocket PNG Vai Non vale dei clear sto posto Peccato Allora Io direi questo Item a sinistra Into Torre Into Bestione gigantesco Sacrale Basta Leafstone Black glasses Lemonade Oh Belle cura Oggi tu hanno trovato due Shedinja senza coverage Ed è sopravvissuto E' buon per lui A me non succederà mai No ok Questa ho pianto un po' troppo qui Scusate Avete ragione Speriamo che ci succeda E' già successo Rayquaza Shedinja Con Parish Song Non ti preoccupare Randy Zangu Spill 2 Max Repel E' già successo Regà Tranquilli Ma Culo ne ho Inizio a credere di essere io il villain di questa pill ragazzi Quasi più culo che try Ah in effetti Allora mi servono i repellenti Prime Vai a prendere l'HM Slave Che qua fra una lotta in doppio si evolverà e ci prendiamo 100 punti Torre Grazie Arteda per il Prime Benvenuto Oh si Torre Torre Sai quello che mi devi dare No 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 Più speed mi farà un danno atroce Non è che ho Call contro sto robo Devo incassare il suo flamethrower E ucciderlo No Ho missato Cosa aveva il Tapswar Braga mi sono distratto Segno Mistball Perché non ho fatto Hyper Voice mi dirai Boh Vabbè dai questo è stupido Ok Togekiss è un problema Però magari a livelli più alti lo ospediamo Chi lo sa Protector Se è stato divertente Tra il Magmarizer Di fianco al cosplay di Magmar No Ah si Punto Torre Vai No Giochiamo Mirror Shot No Vai a cagare Dai fra minchia Ci ho fatto l'accampamento In sta torre Dammela no Certo Spell tag Va bene Sansone va bene No 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 Che cazzo c'entra Mew Eccala Ah con la grandine Perfetto Sono Garchomp Mi piace il ghiaccio Bravo Tira Rockpoli Tira Rockpoli Tira Rockpoli Tira lo Rockpoli Bravo Eh ma che forte Sei oh Grosso dinosauro Godo Celebi Per tutti i leggendari ci sono Endure Special defense Ne hai Ti manca Penso Penso i danni Ah va bene Nel senso Vai Perfetto Vai Tutta la linea evolutiva Di chance Qua dentro L'abbiamo fatta 50 Anti Ninja Va bene Regà Non riusciremo A sopravvivere In star Per l'appunto Stanca bene Questo Posso usare Scrappi Avete ragione Mea culpa Eh mi devo abituare Vai Schermoni A godere Niente cane Stuntler Niente cane Ale Possibile per noi Di fare l'album No chance C'è una merda 100 punti Minchia È diventato pure un Pokémoncino Oddsense Va bene Punti Torre Bene Ah sì Controliamo che Parasact Non abbia abilità strana È vero bravi Dio cane No Rimperios No frate Cioè nel senso Più che altro Mi fa paura Sguardo Un po' più accettabile Ah ma avevo la Master Ball Che coglione Sì Sorry Sono un pazzo Vai Grazie Parasact Fallito di merda Vai Minchia ragazzo stanco Inizia a diventare una Una prova a resistere challenge Sta pilla Vediamo la vita di Swell No dai Fra Fra Che palle Dai Non mi rendere tutto così difficile Dammi un H.M. Slave Cioè è possibile che trovo le rane E non gli H.M. Slave Fastball Eccoci qua Diugong il gongo Magic guard God Dai Bene Allora Giù Via Via Glielo Glielo do tutte Tanto Prima facciamo meglio Perfetto Rock smash A forza La ottengo tra pochissimo Sì giusto Vai Fattimo abbassare la velocità del coso Vai Allora Drop as well Qua cerchiamo di clearare Il monte mortar E via Dai regà Anche se sono stanco Devo star concentrato Altrimenti non ci accaviamo più Perché quando hai clearato la torre Sei passato da 1,7,3 Perché sono punti Sef Che ne dici Non capisco Sono i punti della torre Quando clear la torre Prendi quei punti Forse non sai che ci sono i punti doppi Nel caso sappi che ci sono i punti doppi Vai Bam Caspita Almeno dammi una Una row up Se è proprio Rare candy Una Una tira la Una mi sento Di poterla tirare Raga vai Più che altro Per avvicinarmi Alla mossa Teniamola sempre Li buona Carta per magmar Però Il resto Vi darei Ho il 0 e 3 Per sta grotta Sì ho un paio di Dio Gesù Ho un paio di robe Focus esce inutile I seal Insomma Quello lo prendiamo poi Oval stone Paralysis Sono praticamente alla ricerca Della row up Della row up Ok Cerchiamo di risparmiare Thunderbolt qua Però non ho messo Neanche un mirror shot Forse non avrei dovuto dirlo Ok non farò più L'errore di prima Cursato vedere Ghirattina Hittato da questa E ancora tu Scusatemi raga Sono stanco Mi sono distratto Cursato vedere Ghirattina Hittato così Vi è piaciuto? Sì Mirror shot Registil T-bolt Slow start Ho letto bene Protect Rosico Vai Vale Cerco di prendere sempre prima gli item Anche perché qui Se troviamo una Row up e simili Potrebbe essere Potrebbe svoltare Invece troviamo un'altra cura buona Bene Che scambio ragazzi Petagna Oh petagna Raga Teniamo la mente È una setup Suicida Ma è una setup Volendo I seal Ah seal item Giù raga Poi lo vado a prendere Tranquilli T-bolt Azinco per la speed Sapete che penso Che sia finito Però proviamo Cioè per la speed Però special defense Ma invece vale ancora Nice Power belt Ho sbagliato Non volevo affrontarlo Ugongo O nel caso tiriamo PP max a thunderbolt Per clear E' una giocata E' una giocata sempre ok Per ora Non lo tiro perché Ametti che becco Il shadinja Beccarlo nei dungeon Probabilmente sarebbe la cosa migliore Perché almeno nei dungeon Con come dire Magari lo becchi con pochi Ippi e te la gestisci Mistball Uh più speed Madonna Fra Oh sì Oh sì Oh sì Disgustoso Ivris ha rinnovato L'abbonamento Per 5 mesi E sono 5 mesi 4 Facciamo tripletta di win Questo po' Cono è un po' Un troiaio La special defense È troppo bassa Però È forte Quindi Se il shadinja puoi installarlo Con le Vabbè Vabbè Dove voglio leggere sto con Certo posso installarlo Con le ball Oppure posso arrivare Prima io a scontro E tirargli scontro Alternativamente Ok GG I1 Hyper voice Comunque dovremmo riuscire A clearare senza PP max Sentimento Lui ha soundproof Come abilità principale Nei giochi Intendo Nei giochi Quelli seri Dove devi essere bravo Lui ha soundproof Ne? Non mi ricordo Perché sai È cric e tune Non ha antisuono Quella roba? Che poi come hanno Antisuono Perdonatemi Nei giochi principali Aiuto insetto No per lui Non ha antisuono Perché lui in realtà Suona Però anche explode Suona e antisuono Perplesso Perplesso Ok lui lo fa Tu li fatti 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 Va bene Mancano Tipo quattro allenatori Come ho antisuono Come ho antisuono Bravi Basta King Grafra Letteralmente Spawnato ovunque Ok GG Dai Non mi parlare mai più Per favore Armor fossil Dovremmo mancare Tre allenatori Giusto? Mistball Distrutto Bastion antisuono Bastion antisuono Mr. Mime Sono sicuro Beh sì Davvero Hyper voice Nice Minchia Comunque tira delle tegole Sto pokemon Raga Facci potete prendere Shadow Ball Ma magari Raga Ci farei sesso Con Shadow Ball E invece Mi becco Giga Impact Invece Mi becco Giga Impact Come MT Del Clear Vaffanculo Mai state utili Stai MT Del Clear Mai state utili Sapete che vi dico Raga Sto con pochi PP Punti Punti Fine Stiamo con pochi PP Raga In previsione Dice ninja Ok Lui è stata Ancora Tu Lui è stata Waterspout Di France Sì ma che era nera Scusatemi Waterspout France Era Bliss Era Porygon No Sì è vero Quindi è andata bene Quella rana Alla fine Ci stiamo Hyper voice Hyper voice Fine Ok Giocati un po' Di Mirror Shot Qui Almeno fino alla Mossa al 57 Provo ad andare avanti Un po' così Così se devo Se becco Sce ninja Qui Sono Più o meno Gestisco T-Bolt T-Bolt Eh ho finito I T-Bolt Vado a curarmi Adesso raga Anche perché Ok Direi che Direi che abbiamo Ufficialmente Mirror Shot In italiano È Crystal Colpo Mi sembra Di sì Dai Jolton Mossa al 57 Ma anche Toxic Pigliami Te lo metto Su Mistball Qualcosa ci inventiamo Leviamo Mistball Piglia Toxic Giusto per non vivere Nel panico Ogni volta Dai Dai Bollette Ma come si fa Minchia Non le ha viste Col binocolo Le anti-shade ninja Cazzo Ma perché La devi intare così Ma scusa Vabbè raga Questo muore Dalla sua stessa Grandine Questo Pokémon Fa marcia Dalla morte Oh magari Sono sempre stato Sfigato con Shedinja Gli altri È capitato Che qualcuno Riuscisse a superare Shedinja Anche senza L'anti-shedinja Atrix Atrix Ci ha vinto Una lega L'Itmontop Di Di tuono È andato avanti Madonna che Pokémon Vergognoso Quello Oh magari Non lo becchiamo Mai Ninja Arriva per forza Ma una certa No per forza No Però per statistica Sì Per forza Non succede Nulla In Kaizo Ironmon Tranne le win Mie scriptate Da poli Ovviamente Si intende Quelle succedono Per forza Sì Come Cagnatore Per statistica Vero Non è ancora Ora di maxare T-Ball No Ora di maxare T-Ball Secondo me Minchia T-Ball Dev'ora di maxarlo Quando sei a zero PPD T-Ball Focus Pudge Counter È Un figa Di incubo Meno male Meno male che Siamo speciali Ragazzi Focus punch E counter Sono da Galera È un È un blocco Mentale Importante C'è un Un mind game Importante Su quel di Alga Andrebbe fatto Meno male che Siamo speciali Certo Non abbiamo Mosse speciali Con quittarlo bene Ma Perché in realtà Sto pokemon Cioè se ci pensate Con la dark E la fight Absol Matrix Aveva molta più Coverage Di questo pokemon Che Va un po' più in difficoltà Su alcuni Il che è impressionante E questo vi dà L'idea Di quanto Cioè vi deve dare L'input Per capire quanto Il tipo lotta A livello di Offensività Sia forte Forte Devastante Devastante Vai faro Allora raga Ok in questa pilla Abbiamo perso In due luoghi Per Shedinja Un luogo È il faro Ne abbiamo perso In due diranno Per Shedinja Un luogo È il faro L'altro luogo Temo lo conosciate Interessante Ok Vai Interessante la situazione Tibolt Qua dentro Siamo già scoppiati Per Shedinja Sarebbe interessante Se risuccedesse Il prossimo Cosmic Power E Flamethrower Cosmic Power Non è che mi farebbe Impazziero Sto Pokémon qua Dove muoversi A shottare Comunque c'è da dire Che la Special Defense È Non è crollata Come Supponevamo È cresciuta Quasi bene E questo Se arriva al 100 Dovrebbe avere 115 Di difesa speciale Che per intenderci Dovrebbe essere La difesa fisica Del nostro Shizor Su FireRed Che è arrivato Al campione Lunedì Probabilmente Anche grazie Agli Zinco Siamo un po' Ripresa Esatto Però È più o meno La stessa situazione Del nostro Shizor Mi chiedo Se tutti i Rotom Abbiamo Soundproof Ok Sì Ho Ho voluto Indagare Vai Era uno spot Ok per farlo Tra l'altro Credo a Rotom Meno Special Attack Perché quella Era una Shadow Ball Stub Però va bene Shaming Pensata Uh Tibone Vai Demolito Stardust Ora va bene Anche Sketch Eh ma minchia Porco due Sketch va sempre bene Frate Quando è che non va bene Sketch Mi sono perso Il momento in cui Sketch non è una mossa God Mi sono perso Quel momento Ragazzi Wiseglass Mi sono perso Il momento in cui Sketch non è La miglior mossa Che ti possa capitare Ok Tibolt GG Difluge Un Tibolt Vai insiste Ci siamo Sensazione mia Su Art Gold Si fatica a vincere Senza setup Non è una sensazione tua È così La lega di Art Gold È molto più forte Di questa Senza setup Fai una fatica A boia A vincere Non credo che qualcuno Abbia vinto Senza setup Tuono Setappato Trainer from one Setappato Io ho setappato Due volte Non so Se Ci siano altre Play In questo senso Polly ha vinto Setappando Con Bull Cup Forse Jolt E Vaporeon Sì sì Rispetto alla Kaizo di Rosso Fuoco Setappare È una play Estremamente più forte Già su Rosso Fuoco Ovviamente è rotta Ma Su questo gioco Secondo me È molto meglio Comunque Faro clearato In Chabat Charty Berry Inutile Più 10 Più 30 Gli ho vinte Senza setup Ma davvero? Bravo Mi dici Mi dai le stats Del tuo Pokémon Nelle mosse Frank Qui in Chabat Sono curioso Sono molto 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 Curioso Allora Angelora Vedere sta clip Vai la guardiamo insieme Un attimo Cioè nel senso Guardiamo il Pokémon Tanto per perdere Un po' di tempo Visto che ne abbiamo Qui hai setupato Con gli X-Special Però no? Vabbè però Avevi tanti X-Special Ok Beh ho capito Questo è un mostro Neanche tanto Il Ralpese Molto bulky Ok Ci sta Molto forte Doppio X-Special Doppio X-Special Ci sta Non hai fatto 100% Però vero È un buon Pokémon Il mio Absol Era migliore Probabilmente Secondo me Secondo me Secondo me ti è andata bene Quante cure Quante cure avevi Per sapere Cioè magari Se avevi mille cure Ci sta Se avevi mille di cure Ci posso stare Potrebbe essere Però vabbè In generale Secondo me Setupare è estremamente Più forte Che su Rossofuoco Tant'è che Secondo me È la play Migliore che devi cercare Totale di 678 Beh ci sta No bravo 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 Non Non gliel'avrei data Avresti dovuto Scommettere Senza le setup Avrei scommesso Contro le setup Provevo le setup Petagna Barry Me la giocherò Immagino In qualche contesto Qua giochiamo la cesta Per ora Quanti punti mancano Per pareggiare Tuono 300 Un po' di più Però Tuono ha una run In corso Quindi in realtà Dobbiamo distaccarlo Tuono qua Sì Metix Sono sicuro Di aver fatto Tutti gli allenatori Del faro Quello era un fotografo Stai sereno Qua è possibile Che io tiri PP Max Tutti i bolt Possibile Mi sarei mirror shot GG Possiamo anche Fare fatica Del Geridos Volendo Dai E anche molti try Sì sì no ma È in dubbio Che con questa run Di t-bolt Adesso ci giochiamo La vittoria Ragazzi Non c'è dubbio Con questa run Di Con questa run Con bollette terzo È assolutamente In dubbio Che ci si giochi La win Della pill Ma io non sono Tuono che Che gufa a caso Io dico le cose Come stanno Se questo Non me lo ferma Shedinja Io analizzo Tuono che Rana Può vincerla No Un po' più brutto Il suo Pokémon È più brutto Di questo Ha un po' Poca speed Il suo Gorebis Ha poca Difesa E pochi HP Mena Come un Fabbro Potrebbe Se gli va bene Bene Arrivare alla Lega Se non Becca merda Potrebbe arrivare Alla Lega Secondo me Tuono Però Non penso Che possa superare Il primo I primi due Super 4 Massimo E secondo me Comunque gli deve andare Bene bene Cioè se becca Allenatori stronzi Sai alla fine La Kaizo Iron Se becca tante cure E Erasky al fondo Del barile Ce la può fare Però Mi stupirei Se vedessi Quel Gorebis Ha la Lega Con delle cure Vai Angelo Shedinja L'ultima volta Ce l'aveva Ce l'ha addirittura Mandato in switch Oh ce l'ha Il Beh ok Perfetto Shedinja Per questo lato Non è un problema Possiamo ciabattare Godo Qui Shedinja Dai Buttalo dentro Frate Butta dentro Shedinja E qui che deve entrare E invece Tango Spai meno special defense Ta roba Segno Ok Jinx Ok ora Shedinja È un problema Ufficialmente problema Ermandie Grazie Siamo Terzi Nel caso ti chiedo scusa Ma che posizione sei Moe in classifica Rispetto agli altri Maresca come ultimo Siamo terzi Stiamo cercando di prenderci Il primo posto Spam di perish Ragazzi Sei sempre tu Maresca Ma meno male Che a sto giro Fra Fra Cioè Raga Non si può vivere così Non si può vivere così Non si può vivere così E qualcuno ha visto le mosse Che poteva prendere Raga Potrebbe dimenticarla Fai i punti Oddio È finita Il prossimo Deoxys Semiserio Che becchiamo 4 3 Ancora Porco Ragazzi Ha sempre Perish Deoxys È un incubo È un incubo Senti Andiamo subito A farci la carta Di Garedos Se riusciamo Che sono punti Li rapiniamo Che tra Deoxys Perish C'è Ninja Che deve spawnere Da un momento All'altro Ho delle Pessime Vibes Oh Il verso Mi sembrava Di un merda Ma guarda Lo shiny Più bello Di sempre 300 Base stats Impossibile Per me Faticare Co diez Raga Ah già Gli oggetti Del lago Bravi Oh si Oh si Oh si GG Grazie per il Vabbè Ah questo L'ho già preso Si Impossibile Verrà di fare Una singola Fatica Pishaberry Ci avrò fatto Due fatiche Instapil Cioè E' lì Che l'ho persa Oltre che Oh si Oh si Oh si Simpli Grazie per il prime Fatiche Cartem Roba che non ci appartiene Bro Deoxy Deoxy Era 5 su 12 Ok quindi Deoxy Dovrebbe dimenticare In teoria Perish Sul lungo termine Vabbè Ma raga Meno male che l'ha mandato Per ultimo In realtà Ci ha graziato Noi stiamo Gli stiamo lanciando Le macumbe Ma Maresca Sto giro Ci ha voluto avvertire Se non altro Prima Perché sono andato qua Lo so che è un MT Quanti punti ho fatto Questa settimana 8000 10.000 Boh Ho vinto Due kites Penso che il mio Sia in assoluto Il record di punti Della storia Della PL Allora Andiamo a fare subito La grotta scura Come giustamente Suggerire in chat Perché a sto punto Se troviamo una row up I trainer al lago Si fanno dopo Raga Sono forti Vai Tuono non è più di testa Wixie Ma Tuono era molto più avanti Tuono aveva 2000 punti In più di me Inizio di sta settimana Raga Hai candy Si ma la tengo Per la potenziale Carta di Magmar Qualora le cose Andassero male Si si Ma questo giolto Non dobbiamo spremerlo Raga Più che altro Allora questo giolto Potrebbe anche arrivare Alla lega Il problema è Shedinja Oltre maresca Il problema è Shedinja Cioè nel senso Se non riusciamo a trovare Un counter per Shedinja In qualche modo Per questo sto andando a prendere Sti item Perché La row up berry Sarebbe tanta roba Energy powder Se non altro Sarebbe una speranza Te 9120 Ti hai tono 8500 Sì sì no Io sto Io sto rompendo Ogni record Ragazzi A sto giro Senza punti doppi Attualmente Sarei a 4500 punti Che credo che sia Record Anche Senza considerare I punti doppi Ah ragazzi Cioè non è che c'è Molto da dire C'ho culo A sto giro Ho avuto molto culo Cazzo devi aggiungere No puttano Puttano Via E invece Ribecco la babia Ribelle C'è stam Ne ho avuto run Per le prime settimane Sì no Beh va bene Per carità E raga Partiamo dall'assunto Che Chiunque Partiamo dall'assunto Che Chiunque vincerà la pill Sarà il più sculato In assoluto Perché ha fatto più punti Degli altri Quindi è stato più sculato Poi si possono fare Distinguo del caso Tu più sculato All'inizio Tu stigato Alla fine Però c'è un cazzo C'è niente Da dire Chi vincerà È più sculato Sto challenge Questo Quindi Vai Dai bollette Non è possibile Sì Fra 71 La prossima Ma secondo voi Metto focus blast Che ha 70 di precisione Con 5 pp Ragazzi Secondo voi È un'idea Già siamo nella merda Con i pp Secondo voi È un'idea Piuttosto Tengo mirror shot Figurati Se mi affido A una 70 di potenza Mirror shot Può droppare La precisione Ita con molta Più precisione Ho detto che non è solo culo È solo culo La percentuale di skill È minima Molto meno del 5% Che alcuni vi vendono Molto meno del 5% Io ne sono convinto C'è una quantità Di variabili Ragazzi Che non è Non è Non è credibile Le skillate che fai Dipendono da una quantità Di fattori randomici Che non conosci Che rende Non dico Ininfluente la skill Ma Al momento Della decisione Si Poi per carità La lega qualcosa Può venire fuori Certo Va bene Infatti Applichi Delle cose Ma Il loro effetto Il fatto che le cose Che applichi Funzionano meno Dipende da una quantità Di dettagli randomici Assurda La possibilità Su Sedef Su Gravity Non è culo Si che è culo Resta culo Non sapevo Cosa avrebbero fatto Si è una giocata lì Però che ne sapevi Che poi dopo Non sarebbe successo altro Secondo me Non Non esiste La skill in questa challenge O almeno È Talmente tanto Subordinata All'elemento randomico Che Risulta Quasi Ininfluenta Poi Raga È ovvio Che se uno Gioca più Concentrato Oh raga Basta E' ovvio Che se uno Gioca più Concentrato L'altro Gioca meno Concentrato Quell'altro Trolla i try Quell'altro Non conosce la stab Va bene Ok D'accordo Nel momento in cui Hai una conoscenza Di base di Pokémon E giochi Concentrato Secondo me Ci sta Tant'è che Poi alla fine Delle varie pill Quelli che sono in cima Parte vabbè Agoga Sfigato Sono più o meno Gli stessi Quelli che sono in fondo Sono gli altri Cioè Questo funziona In generale Credo eh Beh è una regola generale Poi non funziona Sempre Però in generale Il discorso Lì Questo Aveva un da calda Era pericoloso Il discorso Lì in generale È che ovviamente Dipende anche Da quanto Traiardi Da quanto Conosci Poi Non è Non è Non è ovviamente Vincolante Quindi Sì C'è serve Conoscere qualcosa Magari Alla lunga Ti dà anche Qualcosina Ciao Crappo Rientro Su Però C'è raga Come va Una volta Che hai Un Terriccio Cioè Una volta Che hai Delle conoscenze Base Questo Un certo Un certo livello Di conoscenza Di intuitività Del gioco E non serve Essere Il king Delle challenge Serve Avere un po' Di dimestichezza E ti metti Lì concentrato Secondo me Di default Oh sì Oh sì Mamma mia Oh sì Word mix Ha rinnovato L'abbonamento Per sette mesi Complimenti Per la seconda Vittoria Pro Cresci Dicevo Il Cioè Una volta Che si può Raggiungi Un certo livello Poi dopo Cambia poco Quanta skill Ci metti È troppo Subordinato Però Vabbè Raga È un mio pensiero Cioè Il pensiero Di uno Che rischia Di vincerlo Sotto Adesso Sarebbe facile Per me Fare il volta Faccio Dire No ma La skill La riga C'è Sì Subordinata Ripeto Secondo me A Una quantità Di effetti Randomici Che poi rendono Non dico Irrilevante Le cose Però Quindi secondo me È la percentuale Che vi danno Che vi danno Che vi dà Ago Ad esempio Ho anche parlato Con Ago Ogni tanto Cioè Secondo me Sono percentuali Molto generose Ma la skill Conta molto meno In questa sfida Non è che non ci sia È che secondo me Ci rendiamo poco conto Di quanto sia Subordinata Soprattutto quando si parla Di successo In questa challenge Al fattore fortuna Poi sì È ovvio Che se Poli Tuono Anche io Che comunque Alla fine L'ultima epil Ho collezionato Un quarto Un quinto Che non è male Ci mettiamo Giù Cerchiamo di giocare Al massimo Turna Budi E quant'altro Ci sta Che poi Sui grandissimi Numeri Ci siano Delle posizioni Di vantaggio Non è nemmeno detto Perché ad esempio Ago sicuramente È così Sicuramente fa così Ma è zellato Megliador è uno Che puttana troia Difficilmente Ho visto una persona Più competitiva Di lui Ed è zellato Non so Come giochi Il masseo Perché non ho mai Guardato Maseo Giocare La pil Però magari Invece Maseo Era un po' Più nel chill E gli è andata bene Oppure magari Tra yarda Non lo so Non l'ho visto Giocare Faccio una supposizione Eccoci qua Ok Forse Meno attacco speciale Segue la chat Praticamente Eh vabbè Ok Ripeto Non è una regola Che secondo me Funziona 100-100 Per l'appunto Può Creare dei pack Forse Perché se uno Vuole giocare Più nel chill Magari Perdi una run E Pacca sulla spalla E sti cazze Qui se perdiamo Una run In che inizio A picchiarmi la testa Quindi Secondo me È più Un fattore di Conoscenza Base E concentrazione In quel momento Lì Poi Essendo che La quantità Di fortuna E sfortuna È soverchiante Secondo me Poi Non è una Ricetta No Ecco Diciamo È Volendo Una tendenza Beh Come la vedo io Che ho 7000 try L'ho giocata Tanto E l'ho persa Tantissimo E adesso Mi è capitato Di vincerla A caso Di fare 300.000 run Ma gli ho avuto Anch'io i periodi Da 300.000 run Sono stati i periodi In cui io Beccavo Un auto Ogni 10 run Morivano Di mirror coat Morivano Di perish song Morivano Perché non Prendevo le mosse Mi è capitato Due volte di fila Di aver sculato Delle mosse Che non ho sculato In 7000 try Adesso mi è capitato Pure sto poco Buon qua Ma non ho l'antische ninja Secondo me Nel momento In cui hai Delle conoscenze Base Cioè È evidente Che io sappia Io sia più Esperto Di pokemon Di tuono Nel senso Che ho proprio Più esperienza Materialmente Ho più anni Giocati a pokemon Quindi è realistico Che io ce l'abbia di più Però secondo me Nella gaizo erbo Non si vede Ancora tu Secondo me Parere mio Nella gaizo erbo Nel fatto che io abbia 20 anni Di giocate Poco on Continui Più Tre anni e mezzo Di challenge pokemon Fatte a josa Non influisce Più di tanto Sull'andamento Della gaizo erbo Ecco Mettiamola così È probabile Che se Se io e tuono Giochiamo Probabile Non lo so Magari mi incula Però È probabile Che se io e tuono Giochiamo Una nazlock Versus Vinco io Perché lì Conta un po' di più Tutta l'esperienza Pregressa Che ho di pokemon E lì si che incide Tra l'altro Noi ne parliamo poco Ma Anche le nazlock Sono molto luck based Ragazzi Emerald kaizo È profondamente Luck based In alcune cose E la percentuale È molto più Pensate all'early game Ok Ripeto Probabilmente Se io e tuono Facciamo una nazlock Versus Non di molto Perché tuono Sicuramente saprà giocare Ma probabilmente La vinco io Questa distanza Che c'è Non c'è Possiamo parlarne Secondo me In questa challenge Nello specifico Non si vede Questo è un mio pensiero Ragazzi Vi do la mia opinione Su quanto Vi do l'opinione mia Dopo averne vinte Due in 53 Su cos'è la skill Qua dentro Ho fatto delle giocate Skillate Sono contento Di come sono venute fuori Però influenza poco Non serviva Non serviva Crappo Per fare la giocata Di vuoto tetro Questo voglio dire Non serviva Al mio cervello Per la giocata Di vuoto tetro Ci arrivavano Non dico tutti Ma Tuono ci arrivava Aggo ci arrivava E E E Poli ci arrivava Cioè per il livello di skill Che richiede la Kaizo Iron Lì secondo me siamo tutti pari Più o meno Poi ci sono diversi modi Di giocarla Per l'appunto Ci sono diversi modi Di giocarla Nel senso che io ad esempio Ho giocato tutta la pill Cercando di vincere la Kaizo Iron Poli cercando di vincere la pill Tuono cercando di vincere la pill Aggo cercando di non piangere Suppongo E E quindi Di conseguenza Quello influisce In qualche modo No? Su alcune cose E quant'altro Aggo giocando la pill Barando con Poison Hill Giusto? Ecco Secondo me lo fa molto La mentalità Con cui approcci questa challenge Più che la skill Allora Mettiamola così Ve la metto così Se La mentalità Quindi Il rimanere concentrati Il mantenere l'attenzione Il Il non miscliccare L'essere sempre sul pezzo Perché poi anche una sfida Con i nervi E una skill Allora questa challenge È una componente di skill Però se mi parli Di conoscenza di Pokémon Di play così Sni Ripeto Il fattore randomico È secondo me Imperante Archeus comunque Guarda Sapete cosa? Vi butto lì il paragone È come la Formula 1 È un po' tipo La Formula 1 È vero che ci sono Piloti più bravi E piloti meno bravi Però se metti E Perez sulla Red Bull E le Clerc Sulla Ferrari Perez batte le Clerc Punto Anche se probabilmente Le Carache è più forte Poi è chiaro che se c'è Sta Stroll Vabbè Stroll è un caso a parte Non so se Non so se Cogliete il paragone Cioè se c'è il Godman La Ram Buone Tutto setappato Bella Schiliscio di Le Clerc C'è capito? Poi Le Clerc Ho detto un nome a caso Raga C'è nel senso Magari pensate che Le Clerc Sia una merda Sia una pippa Atroce C'è sta Sostituite Le Clerc Mettici Ma che cazzo Hamilton Verstappen Mettici quello che vuoi Hamilton 3000 campionati vitti Appena gli han tolto la macchina Fuori in C1 Fa vedere È un po' più complesso Il discorso Metal Burst Eh Non penso di volermi rischiare Metal Burst Ti dirò Eh però Non è piacevole Ah Questo qua ha addormentato Di Ugong Ma è coglione Questo qua ha appena provato A addormentare Di Ugong Due volte Impossibile per lui Possedere un cervello Oh acquagente c'è Quattro Metal Burst Questi qua C'hanno la CPU stupida Cazzo Veramente Tra l'altro Non attacca Di Ugong Perché non vede Ma guarda che cretino Malefico questo Metal Burst Scusate Ho dovuto ritrovare La concentrazione Un attimo Sto facendo un discorso Interessante Io Finché non hai finito Tutti i Metal Burst Perché provo A addormentare Di Ugong Graga È impazzito? Ma perché L'ho targhetta? Ma probabilmente Questa è la CPU stupida E poi con acquaggetto Piglia me Curiosa sta cosa Tiri l'ultimo Metal Burst Per favore No ok È completamente folle Questo Sì c'ha ragione Facciamo che ammazziamo Di Ugong Almeno piglio l'XP Ok Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Apicot Apicot Non è quello Che cerchiamo Vero Però l'Apicot Da un più Special Defense Che Ma noi abbiamo La petagna Meglio X Defend Never Meltize Proteina Ma raga Speriamo Tiri l'ultimo Metal Burst Ci siamo Sorry Piccolo laghino Della connessione Refresciate La pagina Refresciate 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 È saltata La connessione Un secondo È ricapitato Vai Ci siamo Stilix Interessante Vai Oh Bravo Stilix Questo Dei fare È interessante Stilix Ora Ecco Una Fire Diventerebbe Duopo Direi Oh Sì Oh Sì Oh Sì Beatrice Sottolinea Ciao Bea Grazie per il Trentottesimo Mese Non come gli anni di fidanzamento Sì abbiamo vinto anche con Absol E ora c'ho sto giolto in qua Ma sono imbarazzante Sto scurando molto Ci sta Eh non lo voglio Ice Beam al 71 È quello il fatto Non lo voglio Ice Beam al 71 Non credo di volerlo Ti è ricapitato di chiudere una live per un colpo di nervi Sì La voglio Sì rega va bene salvo È saltata la connessione Cioè non c'entra niente Vabbè salviamo Vai Pina Furio è una pazzia No non è una pazzia Tendrei a farlo A me verrebbe da anticipare Furio raga Non so voi Be a sottolineatura Tipo Cirdix 25 Casi per i 25 Due cose Uno la chat è bloccata Due ho fatto un fotomontaggio Sotto consiglio di Davide di Absol Morpheus di Matrix Poi ce lo guardo Eh chat bloccata raga Non so come ripigliarla Faccio così Scrivete raga Dio porco sono fortissimo I Joel e i Cirdix 25 Questi problemi sono dovuti al fatto che bollette non a giorno paga Sono immenso Che schillata che ho fatto su sto programma Pazzesco E tutti che dicono che non so usare la tecnologia Eugenius A me verrebbe raga da anticipare Furio Aspettate che magari becchisce Ninja qua Capiamo Eh si raga ho scriptato la mossa Digit E' vero ho scriptato la mossa Eh niente Mi hanno beccato Segna più al capisco Parli che sciottiamo tutti Vai Andrea Rocket L'attore sembra gli stessi mon Soprattutto vale molto più punti A quei 4-5 livelli in più Eh ho capito Proprio perché hanno molti più mon Secondo me Cioè Proprio perché hanno gli stessi mon Se beh con gli Lisce Ninja Non ho speranze Vero che qualche livello in più Su Furio farebbe comodo E' vero che il rifugio vale di più E' anche vero che al rifugio Si rischia molto di più Di morire di Lisce Ninja Io vado intanto A fargli allenatori Alla Godira Con Furio prendo la mossa 71 E scuro l'MT Non saprei raga Oh si Oh si Oh si Alex Quarra ha rinnovato L'abbonamento per 9 mesi Ho appena finito di vedere Il tuo video sul mirato No fra Devo beccarlo su 5 mon Su tutti gli allenatori Del Team Rocket Che sono molti più Di quelli di Furio Pensavamo diventassi Scemo davanti a videogiochi Grazie mille Alex Per il nono mese E' esattamente quello Cioè sono gli allenatori Delle statue Gli altri allenatori Che sono tantini Han tanti pokemon La lotta in doppio Furio Un po' più forte Ma il nostro pokemon È forte Cioè io ragione Io ragiono in questi termini Il problema del nostro pokemon Non sono le lotte in palestra È Shedinja In questo momento Quindi io vado A evitare Shedinja Cioè a me sembra Ragionevole L'Ace di Furio Mi sembra che sia Al 57 60 Ce lo giochiamo Boh Non lo so Intanto famo questi Che se becchiamo Shedinja Qua cambia tutto Più che altro Magari Magari saliamo Da 71 Prendiamo la Shedinja Allora a quel punto Cambia tutto Kingler Magari ti dice bene Una mossa con contro il colpo Si può Eh vabbè Ho capito raga Sono 7003 di Kaizo Aermon Che lo dico Se volete Ci rischiamo di nuovo Sta roba qua Altrimenti Ditemi voi Più HP Qua purtroppo A 71 Non ci arriviamo Cazzo Potevo tiramiare Il Candy Che è fallito C'era ragione Guarda il fatto Che non ho visto Magmar Alla zona Urkudiaz Urkudiaz Eh pain split Pain split Non è il massimo Raga Confermo Beh raga Verrebbe da far fuori È difficile Magari buttiamo Delle cure Però Fra C'è Non so voi Io l'investimento Lo farei A che livello È il più forte Di Furium Avevamo già vista Sta cosa Sì qua Dice di fare Il rocket ride out Prima Dovrebbe essere Più o meno Jasmine A 65 Furium Mi pare fosse Tipo 60 Non so Oh Poi per carità C'è Ninja può essere Da fuori C'è Nel senso Io mi piglierei Sto rischio Raga È un rischio Qui mi si sono Baggati Baggati gli spectra Dopo il crash Bene Dai Vaffanculo Oh sì Oh sì Oh sì Oh sì Eh Matteo Grazie per questo Mese Ti è andata male Ti è andata male Accetto di rischiare L'inculata Raga Sì effettivamente La bacca per la paralisi Non è molto furba Da dare Ma la togliamo Cioè oddio T-Wave può arrivare Però effettivamente Non becchiamo Dall'elettro Dai Dai bollette Non è possibile Tutta la run Così Queste sono le run Che mi infastidiscono Raga Cioè questo è il tipo Di run Che mi infastidisce Quando mi devono rompere I coglioni Senza darmi Le call per gli altri Queste sono le run Che quando perdo Mi girano Mi gira il cazzo Solo Jordan Sta palestra Miltank Dai su Su Forza Hyper voice Una cazzo Di turbo fuoco Ti chiedo Turbo fuoco Sarebbe L'ennesimo Jordan Morto Da anti-shedinja Pazzesco Allora Io faccio Fury Mi piglio L'MT E' chiaro Che non sarò Così folle Da fare Jasmine Perché Jasmine Ha il 65 Più forte Come fare un super 4 Anzi Forse Forse è peggio Di fare il primo super 4 Figa No Vai di Tibalt Sti cazzo di mirror shot Porca Madosca Che sleppa Difesa speciale Molto buona Lui Menomale che noi abbiamo Una difesa fisica Altrettanto discreta Makargo Tibalt Questo penso abbiamo A terra Mamuore Godon Venusaur Mistball Buono Farfetch Dai Cazzo Più gente Con la grandina Dovrebbe esserci In star Defend order Muore di grandine Cogliono Defend order Comunque Pietisti 40 punti Di Chuck Dai Dai Chuck Oh Shedinja Ne ha Di Typing Che soffra Fra Shedinja Ne soffre Di tipi Ciao Sì è vero Può anche non uscire Per una volta Che abbiamo la call Però mi fido poco Oh raga Jasmine Non sono così suicida Da provarla Non sbaglio qualche Sì Il cavo palestra Mi ha dato buato Che cosa ci ottengo Facendo buato Su Shedinja Che ritorna Al turno dopo Perché magari Mi hanno dentro Uno con la condizione Non lo so Non mi prevo Di una mossa Per una giocata Così folle No Lega Senza Shedinja Certo che si Ormai L'album Raga È utopia Il magmar Lo andiamo a vedere Poi raga Chill Oddio No andiamo a vederlo Prima di entrare A fare gli avversari Sai perché Che sia mai Che abbiamo voglia Di tirarci la rare candy Perché non si trova Allora ce la tiriamo Per imparare la mossa Prima del tempo Ma si raga Pure una status C'è una mossa Una beat up Toxic Slip Poison powder C'è davvero Il nulla Raga Il nulla Sto chiedendo Spero che anche a tuono Vada così di merda Vabbè Sì Fai sto test Del cazzo Su Fai sto test Di merda E vaffanculo Allora Magmar Teeter dance Cioè Teeter dance Che abbiamo Tutto su Shizor Come antisce Ninja È andata Benissimo Andava benissimo Quella mossa Leo Più che altro Se vediamo Che Magmar Non è in giro Vero che ci potrebbe Essere anche L'Ectobas Però tanto L'Ectobas Non viene più fuori Cercando l'erbalta Non ci perderò Così tanto tempo Perché Tanto l'album Per me è inutile Cioè Nel senso Per me Al punto a cui sono Conviene vincere Con le run Visto che ce le sta dando E Se mi dice Che Magmar Non c'è Magari Aller candidato Io lo subito E lo mando a farlo Il culo Tanto la carta Di Magmar Mi dà 250 punti Eccolo qua Will Pino Me ne dà 200 Quindi Shedinja un tempo Shedinja non può avere Un tempo Ovviamente Essendo che ha magi difesa Allora Ovviamente C'è È a Fiorpescovoli Va bene Volendo ci sarebbe Magmarizer Non lo abbiamo Lo abbiamo No Non lo abbiamo No Non credo che sia Con spaccaroggio Se no sarebbe Evento Credo che sia Acqua Questo spiazzo D'acqua Oh Però noi abbiamo Il Magmarizer Quindi tanto È fuori Discussione Almeno abbiamo Delle info Se non altro Quello Stavo pensando Allora Fuori dal Cazzo Gli E vediamo Un po' Da farsi Con la logica Di un tempo Shedinja non è un problema Perché la Sandstream Is no warning Esatto Oh Se c'è Shedinja Le torri Sono quasi Contento Perché è un'ottima Gag Occhio Ipp Moriamo L'Emir Shot Qua in Casa Su di lui Thunderbolt È obbligatorio Se vogliamo Fare le cose Fatte bene Su di lui Non lo so Vedi Hyper Voice Ok Hyper Voice Kill Mi prendo il naso Sarà la coca Che vi devo dire Octillery Hyper Voice Bene Paraglim Beh Tibalt Probabilmente Conviene tirarli Mi state Consigliando Burn Di Triatax Su Shedinja Raga Ma se non lo hit Come lo burn Per favore Cos'ho per i pp Il nulla Come al solito Che scandalo Ho una leppa E un etere Mbam Nel caso Parte l'etere Ah Nel caso Parte l'etere Su Tibalt Non ho un pp Non ho un pp Ho un pp max L'ho già tirato Su Tibalt Allora no Con l'epa etere Si può Clearare Il problema È che poi Dopo non abbiamo Mezzi per Clearare la torre Io preferisco Magari Clearare la torre Che clearare questo Calcolate Raga che E in questo momento Io penso più alla pil Che a fare una terza win Cioè mi importa il giusto Di fare la terza Chiaro che I due sono coincidenti Però comunque Mirror Shot scriptata Hitta sempre Che scandalo Qui il fatto è che Se mi danno Un altro Un altro Cioè un elisir Posso giocarmi il resto Con più nonchalance Forse se finisco I Tibalt E poi Cioè se finisco I Tibalt Neanche non serve Nemmeno finirli In teoria Se tiro etere Su Tibalt A una certa Potremmo farcela Volevo dire 34 pp di Tibalt Sì ce la potremmo Fare Forse un po Affannosamente Ma ce la potremmo fare Ok Lansat Non ricordo Lansat Ok crit Micolberry Vai affanculo Nugget Vai a cagare Aspire Eh non ce l'abbiamo Quella bacca Jumbo Ce l'avessimo Bah Ragazzi Con belli Dramm Io finirei Le statuere Fini di pp Se c'è una silenzia Nei pochi Questa è una delle call Migliori che la chat Mi abbia mai fatto Nella storia Della Kaizo Hermon Probabilmente Complimenti Molto intelligente 3 miliardi Di qui Sta cosa Che hai appena detto Cioè poi Per carità Becky Shady Già hai finito Di clearare sto posto Però Mi manca L'allenatore sopra Ah non l'ho fatto Davvero Ok Lo vado a fare Beh lui è da fare Obbligatoriamente Se non sbaglio Per i documenti Quindi Eh lo so Che l'ultima L'ultima volta Che ho detto Che era una buona Call Non è finita bene Però io riconosco I meriti Della gente Poi flammo anche Ma questo è un altro Discorso Ma quando c'è Da riconoscere I meriti Si fa Vai Ti volt Se caricherò il vado Da qualche parte Ci metteremo un po' Perché esca il vado Comunque lo trovi su twitch E anche per i non sub A sto giro Giusto perché La pile Polly mi ha imposto Di far sta roba Nonostante io lo abbia Ovviamente picchiato A sangue Ehm Eravamo arrivati Ah si Polly picchiato a sangue Oh si Oh si Oh si Trafagal per il Prime Grazie Lord Focacina Oh si Oh si Oh si Ringraziamo la voce del bot Allora Time E ora i t-bolts Sono 20 Scusate raga Perché l'ho fatto Se poi arriva Shedinja No ho sbagliato Sono distratto Sono stanco Oh si Oh si My bad Oh si Se perdiamo per Shedinja Per i pipì Erore mio Ehm Chi è che ha regalato Buonamente Scusate Ryan Grazie per la sub Regalata Oh ma è partito Live train Si raga Ho trollato Sorry My bad Ehm Sono stanco Anch'io raga Ve l'ho detto Inizia a essere Una Oh ha misato Finalmente ha misato Mirror Shot Mi sto preoccupando Ehm Inizia a essere Una Una Endurance Secondo me Ok Statue fatte Dammi un Eter 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 Ho una Jacoba Berry A sto punto Ho il livello 78 Vediamo un po' Tu Nugget Power Anglet Dai Venomot Mistball Venom Bam Ok Teniamocelo stretto Un attimino Col Mirror Shot Perché potrebbe essere utile Oh ha skipato Scienziato Scienziato Vaffanculo La costrizione Questo non è più Un paese libero Red Flute Salvo Shedinja Dovremmo farcela Clearare Devo tirare solo T-Bolt Da qui in avanti Eccoci Andiamo Poison Gas Perfetto Vabbè ragazzi Rischio sui tipi terra Ovviamente adesso Tirerò sempre T-Bolt Quando posso E se vado in difficoltà Tirerò anche la leppa Provo a risparmiarla Però Lui qua non ha Sei Bacom Vero? Ok Qui dove posso Tiro T-Bolt Mori Ok E mori pure Tutti direi Più HP Ma Si poi Se un gas Avelena Come tossina Ma ovviamente Come Dovreste sapere Arrivati a questo punto Le MT Trovate in giro A caso Non si possono dare Si possono dare Solo quelle Dei cape palestre E quelle droppate In specifici dungeon Nel caso specifico Tre Che sono Il La torre Sprout Il monte Mortar E La grotta scura In unione Al Pozzo Slowpoke Tutte le altre MT Che si trovano Sono assolutamente Inutilizzabili Dio merda Dio cane Dio porco Dio morto Cosa ha fatto? Faint Mori Tipo Dai Voltabsorb Voglio già mettere Ora Tri Attack O voglio farmi Carriere da Lance Forse Tri Attack Mi è più utile Alla torre Raga Di sto passo Porco Dio Non ho fatto Ho schippato Un trainer Ho schippato La testa di cazzo Qui a destra Ragazzi Orco Dio Che cacata Minchia È impossibile Avere attacco speciale Per questo Kingler Immagino che Kingler Comunque Con uno special attack Cazzo Si può giocare così Capisco subito Comunque Si aveva She Ninja C'avete ragione Raga dai Oh si Oh si Oh si Sir Torz ha rinnovato L'abbonamento Per cinque mesi Quello lo hai fatto Davvero Non so se hai fatto No allora se non ho fatto Se Se quello l'ho fatto Allora ho clearato Raga Vado a vedere Vado a vedere il VOD Michael Grazie per il ride A me sembra di averlo Schiffato Dio porco Puttato via 60 punti Di più forse E anche secondo me Non l'ho fatto Cagata Questa Sto giocando Sul centimetro Ho giocato Su centimetro Fareste Cagate Vabbè Piglia 40 punti Non ho fatto il clear Senti tanto devo fare Adesso Jasmine Alfredo Quindi Questa ma Tirerei comunque Sì bravo Dio ci volevo Una laurea Una laurea Per avere una Anti-shedinja Una laurea Dio porco Bravo Flatter Sono due Flatter Io ti direi Su Mistball Per quanto Mirror Shot Sia una merda Perché abbiamo Più PP Di Mirror Shot Vero che ne missa 1-2 Su 10 Però forse Levo Mistball Obiettivamente La stiamo tirando Pochino È una coverage Sugli erba Mistball D'altra parte Se togliamo Mirror Shot Oh sì Non abbiamo niente Sui roccia Oh sì 17gcarlos 97 Ha rinnovato L'abbonamento Per 34 mesi Anche se ho perso Tutto l'inizio Della live Vedo che è andato Tutto bene Forza così Grazie mille Bello Grazie per la sub 34esimo mese Mi si dà più cover Veleno Sui lotta Sì beh è roba Che hito con Tybalt Però Sì scusatemi Vole direi sui roccia Sui terra roccia Perdonatemi Mi sono espresso male Si flutter Su un 15pp Ma flutter Non fa danno Occio ai nido Così Vabbè ragazzi Ho hyper voice Adesso scusate Scusatemi però Flutter lì davanti Quanti punti ho bruciato Per il clear Secondo me 70 Secondo me era No 30 Cioè Scusate 60 Sano stati 30 Moltiplicati 60 Ovviamente Ho la speranza Che Jasmine Dia qualcosa Di meglio Di Flutter 40 Vabbè dai Manco male Solo 20 Valeva il clear Di sto posto Non è che 40 Punti doppi 80 Vabbè Non è rilevante Tanto ormai Sono andati Eh raga Far volare 80 punti Non è bene 40 Già raddoppiati Vabbè raga Dai chat Non mi interessa Tanto scrivete Tutti il contrario Di tutto E per delle robe Buttate Quindi Shallah Cioè raga Se perdo Per 20 punti Mi spacco La testa Te lo giuro Beh c'è C'è un cazzo Da fare Giochiamo Raga Dai Su Tanto Non è che c'è Molto da fare Abbiamo Intato Mi spammiare l'asciuga Potremmo iniziare A essere una call Però Magari Insta Perdiamo A Jasmine Ah Guarda Perfetto Grazie Potremmo anche dirmi Te lo butto nel culo Stavo meglio Probabilmente Ok Asson GG T-Bolt Nice Hyper Voice C'è un jamunirenda Vediamola così Giusto Ok Schioppa Bene Oh sì Incredibile Oh sì Abbiamo sempre buttato giù Vince Palermo 98 Ha rinnovato l'abbonamento Per sei mesi Sei come Giova Sei il campione Della PIL Congratulazioni Gufo Cuore Rosso 20 punti Grazie Vince Per il Prime Grazie mille Anche per la Gufata 23 Focus Energy Dai Sparati Porco Dio Se arriviamo a pari punti Vince Tuono Perché ha fatto Ha vinto il versus Contro di me Pensa un po' Sarebbe incredibile Eh no Focus Energy Mi sembra che il coglione Abbia provato a impararla Per livello Dai Fettuccine Alfredo Così poi abbiamo anche Le isole Vorticose Come si è messo Con le carte Una merda Sei su Nove Non faremo mai l'album Dovevi lasciar perdere Ragazzi Lascia stai punti Lascia stai punti Lascia stai l'album Dead Morris 5 cheer Dix 50 Capita di fare delle carte Le famo Ma l'album è impossibile No le palle Non si stacca un cazzo qui Altrimenti non si finisce nulla Ma cosa succede In questa viola Landa dannata Eh è uno scandalo Quello che sta succedendo Paragly T-Bolt Hyper Voice Ho tranquillizzato Il climatizzatore Che stava Eccoci qua Mirror Shot Buono Come minimo raga Non apparirà mai Cedinja Nella storia Di questa Di questa run Eccoci qui Metal Burst Potresti averlo dimenticato Penso proprio che giocherò Di Flutter Non troppo però Ripeto Ah già Ah porco dio C'ha un tempo Merda Non ci credo Hai troppo Troppo gli ho aumentato L'attacco speciale Raga Sembra aver dimenticato Metal Burst Comunque Non l'ha mai tirato Tracker bloccato Nice T-Bolt 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 Grazie a tutti Aia Ho le perse ma Cioè sei una testa di merda Che scandalo porco dio Più 40 TM07 Dragon Claw Ma vaffanculo Eh no ma Teterdance funziona È proprio Settata diversamente da altre mosse No non è meno È Teterdance che funziona così Io credo che Teterdance abbia una peculiarità Cioè la tira spam Anche se non c'è la confusione Ne ragiona sempre così sta mossa Sarà interessante indagare Dai raga stacco Non sto giocando bene Pinto Stacco sto giocando col culo Sto giocando col culo Ho buttato una cura e 90 punti Nell'arco di 50 Di 5 minuti Va bene Che cagata 90 punti ho buttato Mi avete scritto Va bene Prelega Cioè scusatemi Pre-torre Facciamo Gli item delle isole vorticose Immagino che ci basti Uno sputo Oh sì Per superare il massimo A essere secondi Oh sì Se avessi fatto quei 90 punti Immagino che sarei sopra il massimo In questo momento Grazie Andreas Per la tier 1 Sì Se avessi fatto 90 punti Gli sarei in bocca Vabbè Eh raga Ho intato Vabbè 90 punti Speriamo che non continuo Per la vittoria finale Due autoflab 90 punti Ci vediamo domani alle 15 Attacco live Finiamo sta run E poi vediamo come gestirci le altre Che siamo proprio di corsa Domani attacchiamo alle 15 Magari vi raido qualcuno Visto che siamo anche in tanti Magari fa piacere Domani attacco alle 15 Finiamo questa run Magari facciamo altri try Se non ci sono Non c'è nessuno in live Fantastica Se non ci sono altri try Andiamo a Cioè se non Se finisce presto Andiamo a fare altri try E poi vediamo quando recuperare Anche le altre 37 run E poi vediamo a fare altri try E poi vediamo a fare altri try